Buon pomeriggio a tutti. Colleghi, deputati, deputate, segretariato, tecnici, interpreti, benvenuti a questa prima sessione, se non sbaglio, in presenza che abbiamo con le nuove norme. Se non ci sono obiezioni, possiamo in primis approvare l'ordine del giorno senza modifiche nella sua formulazione attuale, mi sembra di capire che non ci siano modifiche richieste, indi per cui passo alle comunicazioni della Presidenza. Come classicamente succede, potete vedere le varie lingue disponibili nel documento Cont News. Le lingue disponibili sono tedesco, inglese, francese, italiano, greco, spagnolo, portoghese, cieco, ungherese, polacco e rumeno. La riunione avrà luogo in web streaming, con l'esclusione delle parti a porte chiuse e, come vi dicevo, quest'oggi è la prima volta dopo il ritorno al regime presenziale, quindi possiamo vedere i volti di tutti dopo tanto tempo. È addirittura un po' strano vederci in queste circostanze. La speranza che nutro è comunque che la presenza fisica contribuisca al buon funzionamento del dibattito previsti per quest'oggi. Allora, innanzitutto, senza ulteriori indugi, diamo avvio al terzo punto all'ora del giorno, scambio di punti di vista con la commissaria Stella Chirachides, commissaria per la salute e la sicurezza alimentare. Benvenuta, commissaria. È il primo scambio di punti di vista con i commissari della Commissione europea per quanto riguarda il procedimento di approvazione della gestione per l'esercizio finanziario 2020. Quindi un sentito benvenuto da parte della nostra Commissione CONT alla commissaria Chirachides. Con qualche parola vorrei ricordare che a causa della crisi sanitaria la DG Salute e Sicurezza Alimentare ha visto una moltiplicazione di quasi sette volte il bilancio del 2020. La maggior parte di questo bilancio è stato gestito dalla stessa DG. L'errore stimato alla chiusura dei conti raggiungerà, secondo le stime della Commissione, l'1,6%, mentre la Corte dei Conti non ha stimato l'errore specifico in questo settore di spese. Lo scorso 20 ottobre alla commissaria sono state fornite una serie di domande che hanno ricevuto risposta per iscritto lo scorso 4 novembre. La Commissione per il controllo dei bilanci ringrazia notevolmente per lo sforzo profuso nel fornire in maniera così acribica una risposta alle nostre domande. Per iniziare lo scambio dei punti di vista sentiamo la commissaria affinché ci fornisca una breve introduzione, poi spetterà al relatore Chastel e per le domande seguiremo il sistema del ping pong in cui la commissaria darà una risposta alle domande formulate. e poi in ultima istanza ci sarà un turno di domande liberi affinché tutti i colleghi della Conto che vogliano intervenire possano farlo dopo, in ultima istanza ci saranno i commenti a conclusione della commissaria. Senza ulteriori indugi, prego commissaria Chiriachidesa a facoltà. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Può parlare senza mascherina? Può togliersi la mascherina sulla base delle nuove norme? Mi è stato detto questo, si può parlare senza mascherina? Adelante. Prego, a facoltà di intervento commissaria. Normalmente porto sempre la mascherina, però seguo le norme del Parlamento. Presidente, onorevoli deputati, sono lieta di essere qui presente quest'oggi per informarvi sui nostri fascicoli. È giusto dire che nel corso degli ultimi due anni si è dimostrato quanto sia importante il valoro della politica sanitaria dell'Unione Europea e il potere che abbiamo nel cooperare per poter salvare vite umane. Quindi sono molto lieta di poter essere quest'oggi con voi per discutere dei molti fascicoli importanti in materia sanitaria su cui cooperiamo con voi nel contesto di questa procedura di di scarico. Durante la pandemia, Presidente, lei l'ha menzionato, la politica sanitaria ha svolto un ruolo senza precedenti a livello unionale. La politica sanitaria è stata una risposta alla pandemia. Ha aiutato gli Stati membri a rafforzare e a coordinare la propria risposta e la propria attività e ha sostenuto una cooperazione fondamentale sui vaccini, su le procedure terapeutiche e sulle equipaggiature mediche. Attraverso la strategia vaccinale abbiamo sostenuto lo sforzo per accelerare lo sviluppo e l'accesso a vaccini sicuri ed efficaci. Nel 2020, in meno di sei mesi, abbiamo garantito un ampio portafoglio di più 2,6 miliardi di dosi di vaccini, con un bilancio di quasi 2,5 miliardi di Euro. I risultati di questo sforzo collaborativo sono veramente notevoli. Più di 3 adulti su 4 nell'Unione Europea adesso sono completamente vaccinati. Naturalmente tutti insieme possiamo essere orgogliosi di questi risultati, ma come vediamo non abbiamo ancora superato la pandemia. Gli Stati membri devono continuare a portare avanti gli sforzi in materia vaccinale e bisogna colmare qualsiasi lacuna vaccinale. Nonostante la flessibilità introdotta nel marzo del 2020, per esempio negli appalti o nei circuiti finanziari semplificati, il quadro della Commissione continua ad essere pienamente applicabile. Grazie al nostro quadro solido e alla garanzia di responsabilità, i fondi europei sono ben gestiti e protetti durante la pandemia. Come risultato sono lieta del fatto che i nostri programmi di sanità e di sicurezza alimentare abbiano diminuito il proprio tasso d'errore durante la pandemia. La Corte dei Conti non ha sottolineato alcun problema nel relazione 2020 circa la regolarità delle transazioni o nella sua relazione sul prestazione dei programmi di spesa. Voglio sottolineare qui che siamo pienamente impegnati nel sostenere il lavoro della Corte e nell'applicare le raccomandazioni presentate dai revisori contabili. Per esempio nell'attuale audit per gli accordi di acquisto previo abbiamo dato accesso alla Corte a tutti i fascicoli pertinenti. Abbiamo anche preso in considerazione la necessità di trasparenza nei confronti della vostra Commissione in maniera molto seria. In maniera costante e sistematica abbiamo pubblicato i contratti e grazie alla nostra cooperazione con le imprese all'inizio del 2021 abbiamo presentato delle versioni degli accordi di acquisto previo mettendoli a disposizione della lettura dei deputati. Abbiamo fornito tutta la massima trasparenza con scambi con la Commissione parlamentare e con un gruppo ad hoc sui vaccini con un totale di 19 riunioni finora, rispettando la confidenzialità contrattuale in materia di obblighi e legislazione per tutelare le imprese. Le clausole di non divulgazione sono una caratteristica costante degli accordi di acquisto, tutelano l'interesse legittimo delle imprese che hanno fatto ampi investimenti in produzione e in ricerca. C'è anche il processo di aggiudicazione che deve essere garantito per far sì che ci siano le migliori condizioni per gli stati membri e i cittadini. Onorevoli deputati, la trasparenza è precipua e un controllo parlamentare è fondamentale e indispensabile. Questo crea fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle azioni portate avanti per lottare contro il Covid-19, ma bisogna continuare ad essere anche vigilanti contro la fraude e la corruzione. Voglio garantirvi che nel portare avanti le politiche alimentari e di sanità sono impegnata per una gestione finanziaria idonea e per una zero tolleranza per le frodi. Plaudo la discussione che avrà luogo, la prima, come è stato detto, in presenza e naturalmente darò una risposta a tutte le domande politiche e a livello tecnico ho i colleghi che mi daranno un sostegno. Grazie Presidente, moltissime grazie. Bene, passiamo all'intervento del relatore Chastel, ha 8 minuti di intervento per domande e risposte. Prego, Onorevoli Chastel. Grazie Presidente, Commissaria, lei l'ha ribadito, la Direzione Generale è stata fortemente mobilitata per affrontare la crisi sanitaria, per rafforzare i nostri sistemi nazionali di salute in maniera sostenibile e solida. È stato necessario colmare le lacune di mancanze di equipaggiatura medica come le mascherine e i respiratori e poi in seconda istanza abbiamo dovuto sviluppare i vaccini, svilupparne anche la distribuzione e la produzione. Tutto non è stato perfetto, va da sé questo, ma la gestione della strategia vaccinale a livello europeo e soprattutto l'acquisto di dosi da parte della Commissione hanno dimostrato concretamente, agli occhi di tutti gli europei, il valore aggiunto dell'Unione e ha consentito un accesso più rapido ai vaccini per l'insieme dei cittadini europei. Giustamente l'ha ricordato nelle risposte per iscritto e per questo la ringrazio del resto. Le cure sanitarie fanno parte integrante del pilastro europeo dei diritti sociali e questa crisi è stata l'occasione per sviluppare approcci comuni, per creare anche concretamente l'inizio di un'Europa della salute e la speranza che nutro è che questa spinta vada avanti anche in altri settori, anche se in questo momento la salute è una competenza soprattutto nazionale. Naturalmente all'atere della pandemia la vostra direzione generale porta avanti progetti ambiziosi, per esempio programmi alimentari, U4Health e il piano di lotta contro il cancro, una delle priorità di questa legislatura e in seguito alle risposte che ci ha dato alle nostre domande per iscritto vorrei formulare tutta una serie di interrogativi ulteriori. La Commissione è stata criticata per la sua reazione lenta all'inizio della pandemia, è stata una reazione, ma anche per i negoziati dei prezzi dei vaccini. Vorrei sapere secondo lei con il senno di poi quali siano i punti che avrebbero potuto essere migliorati nella gestione di questa crisi, quali sono stati anche gli ostacoli magari di natura amministrativa che ha potuto notare quando urgentemente la crisi andava affrontata, quali sono anche le lezioni che la sua direzione generale ha potuto trarre dalla gestione delle cure sanitarie del Covid e della lotta contro la disinformazione. Secondo interrogativo. Nelle risposte scritte lei menziona la strategia farmaceutica europea. Vorrei sapere quali siano gli indicatori di prestazione o gli obiettivi fissati per misurare i progressi in questo settore, così importante soprattutto nel settore dell'accessibilità per la lotta contro le malattie rari. Come si articola questo lavoro con la ricerca delle imprese farmaceutiche in materia? Alla domanda 11 e 21 la risposta è questa. Soprattutto gli audit in loco non hanno avuto luogo, noi tutti capiamo perché, è che i controlli sono stati effettuati soprattutto online e a distanza. In tutti i contatti che abbiamo avuto con la Corte dei Conti, i revisori contabili ci ricordano quanto siano importanti i controlli in loco, quindi in futuro come pianificate ulteriori controlli? Volete rafforzarli? Quelli in loco a partire da quest'anno o a partire dal 2022 e poi per concludere. Nel 2020 una nuova agenzia è stata istituita, ERA è responsabile della reazione alle urgenze di natura sanitaria. Vorrei sapere perché è stata creata una nuova agenzia al posto di creare una nuova cellula dedicata a questa questione, in seno al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie o dell'Agenzia Europea dei Medicinali. Grazie per le risposte. Grazie onorevole Chastel, prego commissaria. Onorevoli deputati, grazie onorevole Chastel per le sue domande e grazie per aver preso in considerazione le questioni da una prospettiva precisa, perché lei ha toccato l'elemento fondamentale delle questioni degli ultimi 22 mesi e lei assolutamente ha ragione, che sì, abbiamo mobilitato in maniera massiccia la nostra DG per poter affrontare una crisi senza precedenti, abbiamo mobilitato anche il sostegno del Parlamento, il sostegno in questa mobilitazione è stato importante, è stato notevolissimo per il raggiungimento degli obiettivi e quindi ancora una volta ribadisco i miei ringraziamenti, sono stata tante volte al Parlamento e l'ho sempre ringraziato e vi ringrazio anche per aver sollevato un punto. La strategia europea fornisce un valore aggiunto e la cura sanitaria fa parte integralmente del pilastro dei diritti sociali. Cerco di dare una risposta nell'ordine dei suoi quesiti, però penso che ci siano comunque delle sovrapposizioni. Innanzitutto, nonostante il fatto che si affronti una crisi senza precedenti e nonostante il fatto che la pandemia sia ancora in fieri con i problemi di Covid-19, voglio garantire a tutti che le altre parti del mio portafoglio e gli altri settori molto importanti di mia competenza, il piano europeo contro il cancro oppure il piano contro le malattie rare, questi settori hanno continuato ad essere applicati. C'è un lavoro in parallelo in questo caso, so che l'attenzione si impernia soprattutto sulla lotta contro il Covid-19, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle altre malattie non trasmissibili e non l'abbiamo fatto, non abbiamo chiuso gli occhi, ci siamo impegnati. La strategia farmaceutica rappresenta una parte molto importante di uno dei pilastri dell'Unione Europea della Salute che abbiamo presentato. La domanda è stata questa, cosa avremmo potuto fare diversamente o quale sarebbe stato un processo diverso di mobilitazione migliore? Abbiamo tutta una serie di strutture diverse di fronte a noi, dobbiamo rafforzare alcune delle strutture già in atto. Mi riallaccio a quanto ha detto la fine, perché era? Perché non abbiamo dato questa responsabilità alle CDC e all'EMA? Queste due agenzie hanno svolto un lavoro fantastico durante la pandemia, ma hanno anche un ruolo specifico da svolgere. ERA non avrà alcuna sovrapposizione, l'abbiamo già analizzato al punto, ma dobbiamo rafforzare i mandati e dobbiamo anche creare una nuova autorità, cioè ERA, che potrà colmare le lacune che abbiamo visto nel corso degli ultimi 22 mesi. Siamo riusciti a mobilitare molto senza soluzioni ad hoc, ma non è questo il modus operandi per gestire una pandemia. Serve una struttura di soluzioni in atto per poter gestire la reattività, per poter mobilitare le soluzioni in maniera rapida in caso di urgenza. Ed è questo l'elemento precipico di ERA. Quindi non sostituiamo le CDC o l'EMA, perché entrambe le agenzie vedranno un rafforzamento del proprio mandato. Creiamo un'autorità diversa che avrà un duplice modus operandi, quello di reattività e di risposta in caso di pandemia. Poi, per quanto riguarda la strategia farmaceutica, è indubbio che questo è un elemento fondamentale del vostro lavoro, anche perché voi rappresentate i cittadini europei, ma anche di noi, Commissione. Dobbiamo fissare delle priorità. Questo è stato un elemento fondamentale dell'agenda politica. Dobbiamo garantire che i cittadini in Europa, a prescindere da dove abitino, abbiano pari accesso a medicinali innovativi e a basso prezzo, motivo per cui abbiamo avanzato delle proposte con una pubblicazione della strategia nel 2020. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando a livello di valutazione, circa dove ci possano essere delle lacune nella filiera di fornitura. Stiamo concludendo uno studio su questo e entro il 2022 concluderemo questi lavori. La strategia farmaceutica non riguarderà, come ho già detto per iscritto, non riguarderà soltanto legislazione, riguarderà anche le persone. Vogliamo fornire competenze alla forza lavoro, ma dobbiamo indubbiamente garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a medicinali innovativi e a prezzo accettabile per tutti. Quindi questo è un elemento fondamentale dell'Unione Europea della Salute. Per quanto riguarda i controlli contabili in loco, sono d'accordo, questo ha avuto un impatto fondamentale sulla nostra vita e sul nostro lavoro. Se posso però vorrei dare facoltà a Matthew Hudson, della mia direzione generale, affinché possa dirvi come noi si siano gestite queste sfide e come intendiamo lavorare in futuro a livello di audit. Grazie. Molte grazie commissaria. Per quanto riguarda gli audit, come è stato detto anche nelle risposte per iscritto, ci sono due tipi diversi di audit nella DG Sant'E. A livello di revisioni contabili finanziarie abbiamo un'equip per le attività finanziarie, un numero limitato di audit sono stati fatti in loco, gli altri sono stati fatti in remoto. Si tratta di audit finanziari, di documentazione quindi, abbiamo potuto fare questo seguendo gli standard idonei di audit, abbiamo mantenuto la copertura totale degli audit prevista. Per quanto concerne poi gli audit per valutare l'ottemperanza con gli standard di sicurezza alimentare, le norme in materia di sicurezza alimentare, queste normalmente prevedono una parte di lavoro significativa in loco. Se è stato possibile l'abbiamo fatto con auditi in remoto. Quando è stato possibile abbiamo fatto uno degli effetti collaterali del Covid è stato lo sviluppo delle videotecnologie per consentire alcune di queste valutazioni affinché si potesse entrare negli stabilimenti per poter vedere in loco, per dirigere la persona con la telecamera in modo che noi si potesse vedere veramente cosa succedeva. Adesso stiamo risviluppando i nostri programmi di audit per poter garantire che ci sia un numero maggiore di audit in loco, ma questo dipende naturalmente anche soprattutto dalle condizioni sanitarie, dalle condizioni di viaggio presenti, non soltanto per viaggiare in diverse ubicazioni, ma anche per potersi spostare, per poter entrare nei vari stabilimenti. Grazie Presidente. Grazie. Se non ci sono commenti da parte della Commissione adesso passiamo agli interventi dei vari gruppi politici. Innanzitutto per il gruppo PPE abbiamo l'On. Petri, 6 minuti per domande e risposte, so che ci sarà poco tempo a disposizione, quindi fate le domande rapidamente affinché la Commissaria possa dare una risposta, se avremo ancora tempo potremo fare un altro turno di interventi. Prego On. Petri Sarvama, grazie Presidente, grazie Commissaria. Innanzitutto prime domande. Mi concentro sul sostegno d'emergenza nell'Unione Europea. 2,6 miliardi sono stati pagati con questo strumento di emergenza, magari ho capito male quello che ha detto, però le informazioni a mia disposizione mi dicono che la Corte dei Conti effettivamente descrive errori determinati in questi progetti finanziati con questo strumento nel Regno Unito per quanto riguarda il trasporto di molte equipaggiature, quindi la mia domanda è questa. La Commissione come ha effettuato dei controlli per quanto riguarda le procedure di appalto per quanto concerne le equipaggiature finanziate con questo strumento e ci sono stati anche altri casi di costi eccessivi e in tal caso qual è stato l'importo? E poi la Commissione ha imposto delle correzioni finanziarie o intende farlo? Nelle riprese si, qual è l'importo totale? Seconda domanda, strategia antifrode, nella risposta alle domande 16 e 23 lei menziona che la strategia antifrode dovrebbe essere adottata o meglio approvata quest'oggi, 8 novembre, è stata approvata? E può descrivere gli elementi salienti di questa nuova strategia antifrode? E poi in terza istanza i vaccini? Semplicemente, qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda le consegne non effettuate da parte di AstraZeneca? E per quanto riguarda questi auditi in remoto? C'è già stata una domanda del relatore, ma non specificatamente quello che vorrei sapere, nella fattispecie, il rischio di rilevamento può avere luogo in modo migliore secondo la Corte dei Conti in loco? La mia domanda è questa, questi auditi in remoto che impatto hanno avuto sul rischio di rilevamento e sul livello anche di garanzia? Grazie. Grazie, prego commissaria Chiriachides, può dare una risposta? Grazie. Ora, molte grazie per questa domanda, onorevole Sarvama, per quanto riguarda le domande, il bilancio dello strumento per la risposta d'emergenza. Nel 2020 avevamo 3,4 miliardi di Euro disponibili per sottoscrivere contratti e sovvenzioni e quasi 3 miliardi di pagamenti per lottare contro la pandemia di Covid-19. Le azioni sono state applicate, completamente applicate, 94% delle azioni sono state finanziate, poi c'è stata una posposizione anche a quest'anno, in modo che tutte le condizioni venissero rispettate, ritornerò sulla questione dopo. La seconda parte, lei ha menzionato AstraZeneca, la seconda parte del pagamento ad AstraZeneca è stata posticipata per problemi di fornitura, cioè una causa alla Corte ed ha avuto luogo nel settembre del 2021 e è qua che siamo adesso. Ora, naturalmente, se posso cogliere l'opportunità che mi viene data, con AstraZeneca la situazione al Tribunale e alla Corte è deplorevole perché non la si vuole avere durante la pandemia, ma dovevamo agire per garantire la consegna dei vaccini e per rispettare anche gli accordi di acquisto previo. Per quanto riguarda l'Efsi, nessun errore è stato trovato dalla Corte dei Conti per quanto riguarda lo strumento per l'emergenza. Vogliamo naturalmente cooperare strettamente con la Corte dei Conti, c'è anche una riunione prevista con il Presidente della Corte perché vogliamo massima trasparenza. Lo strumento d'emergenza è stato utilizzato anche per altri casi, per l'acquisto di mascherine, per il sostegno di interoperabilità dell'applicazione di tracciamento, per la formazione e le cure intensive e abbiamo dato le sovvenzioni agli Stati membri per poter potenziare le capacità di test per la raccolta di plasma. Quindi lo strumento per l'emergenza è stato utile per tutta una serie di misure necessarie e questo è stato utile anche per sostenere gli Stati membri durante la pandemia. Ci tengo a dire brevemente per quanto riguarda gli accordi di acquisto previo, anticipato, c'è la questione dei controlli. Gli Stati membri hanno contribuito con 750 milioni di Euro per quanto riguarda gli accordi di acquisto anticipato e questo ha contribuito al nostro portafoglio, alle attività. 750 milioni di Euro sono stati utilizzati come top up. Noi abbiamo avuto un'applicazione del 44% alla fine del 2020 e poi un importo aggiuntivo è stato utilizzato nel 2021 e il resto verrà utilizzato per altre misure a seconda dell'evoluzione della pandemia. Quindi a livello di controlli, magari posso dare facoltà al collega per quanto riguarda la strategia per la lotta alla frode, si ha ragione, c'è stata l'approvazione proprio quest'oggi, l'8 novembre. Quindi proprio oggi sentiamo il collega adesso con qualche dettaglio in più sulla strategia anti-frode. Quello che posso dire è questo, per concludere il mio intervento. Personalmente condivido le vostre speranze per più audit in loco, se del caso, perché è un qualcosa di molto importante. Siamo anche molto consapevoli che siamo in una situazione che continua ad essere molto difficile, quindi per cui dobbiamo fare significativamente di più, dobbiamo approfondire i migliori sforzi anche in condizioni remoto in cui ci troviamo. Grazie. Prego, signor Hudson. La strategia anti-frode effettivamente è stata adottata dal management board della DigiSante stamattina. Si tratta di un documento molto ampio, segue le guidelines della Commissione e dell'Olaf, si basa su una valutazione di rischio, quindi un lavoro dettagliato che si è fatto durante quest'anno. A parte la strategia, include anche un piano d'azione dettagliato per il seguito, perché la frode è una sfida permanente. Non si può stare immobili, quindi dobbiamo costantemente seguire la situazione. Abbiamo deciso nel prossimo periodo, che arriva fino al 2024, come ha detto giustamente, di concentrarci su cinque ambiti specifici. Quindi la sensibilizzazione, la necessità sempre di sensibilizzare tutti a questa sfida e alle sfide, migliorare l'attenzione alla frode in tutto il periodo, cioè sia quando ci sono delle iniziative che si sviluppano in questo senso, a livello legislativo e poi anche il seguito, controllo, seguito con le agenzie. Noi sappiamo che è un ambito importante su cui intervenire, lo stiamo facendo. Buona cooperazione con l'Olaf, il network della Commissione e l'EPO di nuova creazione. E poi un altro importante ambito, l'ambiente del controllo digitale. Quindi il digitale deve essere attrezzato al massimo per poter affrontare le questioni. Per quanto riguarda gli audit, mi ha chiesto quali sono gli importi, quali sono i rischi. Ebbene, la copertura della revisione in termini di audit finanziari ha rispettato i requisiti. In quella parte dell'attività sono stati valutati il tasso di rischi, 0,9%. Per quanto riguarda gli appalti, non ci sono dei rapporti di controllo a disposizione, da quello che abbiamo visto nelle risposte alla Commissione. Per la Corte dei Conti e i servizi di audit della Commissione hanno esaminato come poter procedere nel 2020 e non sono state fatte delle osservazioni specifiche. Certo, man mano che noi riceveremo delle informazioni, interverremo. Un punto importante da aggiungere. Per quanto riguarda i controlli sulle forniture. Noi abbiamo istituito dei controlli per vedere le forniture mediche all'inizio del 2020, proprio per evitare delle perdite finanziarie, ma anche fare in modo, cosa anche più importante, fare in modo che le forniture mediche e le forniture sanitarie fossero ben fornite, secondo gli accordi. Prego, Commissaria. Ecco, volevo solo aggiungere, perché c'è stata una domanda specifica, quindi per essere specifici, volevo sottolineare che attualmente la Corte dei Conti sta facendo un audit sulla valutazione dell'accordo sugli acquisti ed è una procedura importante per noi, vista la crisi attuale, vista la complessità anche delle risposte degli Stati. Ecco perché il 9 settembre, l'ho trovata qua la data, ho avuto una riunione due mesi fa e mi sono incontrata con i membri che si occupano di questo nella Corte dei Conti per proseguire con il lavoro e facilitare il loro lavoro. Quindi facciamo in modo di partecipare a questo lavoro, quindi è una cosa in corso. Grazie. Passiamo ora al gruppo SND. Prego, Onorevole Manda. Grazie, Presidente. Commissario, grazie per la sua presenza e grazie per le risposte per iscritto che ci ha dato. La pandemia ha mostrato che tutti dobbiamo prepararci meglio e dobbiamo prestare attenzione alla politica sanitaria nostra. Innanzitutto, volevo fare qualche domanda. Vediamo. I programmi di produzione alimentare. È uno degli ambiti più importanti. Ci può dire quali sono le sfide e i risultati ottenuti? Sì, questo è un aspetto importante. Però ci sono degli stati membri che hanno una popolazione scettica per quanto riguarda le vaccinazioni. Ecco, si è pensato ad una campagna di sensibilizzazione per avere un tasso di vaccinazione maggiore tra la popolazione? Ecco, è possibile magari pensare a qualcosa del genere per i paesi che hanno un basso tasso di vaccinazione? E per quanto riguarda la frode dei certificati Covid, cosa state facendo? In materia di sanità in Romania, si è visto come sono andate le cose l'ultimo anno. Ebbene, che cosa fate voi alla Commissione? Soprattutto vista la situazione di disinformazione delle reti sociali in questo paese e altrove. Poi siamo in una situazione inedita. Tutti hanno visto che non siamo sufficientemente preparati. Le preparative per una pandemia devono essere di tipo politico. Quindi che cosa intende fare la Commissione del 2022 per garantire che si sia meglio preparati per delle sfide di questo tipo? Da ultimo, come possiamo garantire che tutti siamo preparati allo stesso modo? Non ci sono dei paesi che, diciamo, sono più colpiti di altri. Grazie. Comissaria, prego. Credo che nessuno del mondo potesse essere preparato per quello che è successo. Di conseguenza, abbiamo presentato delle proposte specifiche da parte dell'Unione Sanità della Commissione, dell'Unione in generale, anche in discussione col Consiglio e il Parlamento, per poter costruire una struttura dell'Unione per l'Unione in ambito sanitario per essere vicini ai cittadini. Naturalmente ci sono delle competenze degli stati membri e quindi tutto deve essere rispettato secondo i precetti del trattato. Ha ragione quando dice che anche se abbiamo raggiunto il 75% della popolazione adulta che è stata vaccinata nell'Europa, non c'è uniformità tra gli stati membri. Io sono andata in vari stati membri, ho incontrato i ministri della Sanità che hanno più difficoltà con un sistema che è particolarmente sotto pressione, negli ospedali in crisi. Purtroppo questi stati membri ancora non hanno raggiunto un alto grado di vaccinazione. Dai contatti che ho avuto con i ministri della Sanità e anche con gli esperti di una piattaforma epidemiologica degli scienziati, abbiamo capito che ci possono essere le misure che vanno bene per tutti. In certi stati membri ci sono delle motivazioni e attengono a quello stato membro ma non ad altri. Quindi dobbiamo poter affrontare queste sfide individualmente. Fin dall'inizio abbiamo lavorato, abbiamo cercato di preparare dei manuali per convincere, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di andare a farsi vaccinare, non solo per il Covid ma anche nel caso di altri vaccini. L'ECDC ha pubblicato il mese scorso, alla fine di ottobre, una pubblicazione in cui c'erano le migliori prassi per gli stati membri per vederli indurre la popolazione ancora non vaccinata a farlo. Noi seguiamo costantemente la situazione con dei sondaggi per vedere come vedono la cosa i cittadini, come considerano la vaccinazione. Noi guardiamo i cittadini e consideriamo però anche i medici e ha ragione. Occorre una sensibilizzazione sull'importanza dei media sociali e della disinformazione. Lo facciamo proponendo dei dati scientifici e un'analisi attenta dei media sociali con un controllo quotidiano quasi per avere quei mezzi adatti per dare una risposta. Come reagiamo ora? Come reagiremo in futuro? Io ho già parlato delle proposte per l'Unione Sanitaria. Ci sono vari pilastri. Rafforzare il mandato del Centro delle Malattie, la strategia farmaceutica, il piano per lottare contro il cancro a livello europeo. ERA, il nostro programma Europa per la Salute. Poi sosteremo gli stati membri affinché il loro sistema sanitario sia più resiliente e siano meglio preparati. La prima domanda riguardava i progressi nell'ambito della produzione alimentare, i progressi fatti. Questi tassi di errore bassi sono legati ai controlli. 0,9% nel 2020. Ci sono molti controlli e l'obiettivo che abbiamo è l'eradicazione completa. controllando appunto altre malattie, tipo altre malattie che hanno creato delle epidemie. Per esempio l'influenza aviaria è una. Ebbene, nel caso dei certificati e la contraffazione dei certificati, questa è una questione grave. Non possiamo permetterci in una pandemia non trattare il problema dei certificati falsi. Siamo in contatto con gli stati membri e cerchiamo di sostenerli in questa lotta. Per ora posso dire che le indicazioni che abbiamo è che in termini di certificati falsi o falsificati sono ancora nell'ambito del lavoro artigianale. Non ci sono grossi quantitativi, però certamente stiamo seguendo la questione anche in vista del fatto che continua la pandemia. Per quanto riguarda il programma mangimi e produzione alimentare, ecco il testo di errore l'avete già citato e gli obiettivi. Questo è uno dei programmi dell'Unione di più lunga data, solidarietà. Fin dagli anni 90 se ne parlava l'obiettivo era di avere una buona sorveglianza e l'eradicazione delle malattie che colpiscono gli animali o in genere fitosanitarie per controllarle. Ci sono stati buoni risultati nel ridurre l'incidenza delle malattie negli allevamenti. Ecco per esempio l'influenza aviaria, l'afta epizotica, continuano ad essere malattie certo presenti. Ora questa unità, la nostra unità, dà sostegno in due modi. Innanzitutto un programma di eradicazione e quindi la sorveglianza per sapere in tempi dove esistono i focolai e vediamo di eradicare questi focolai. Poi diamo sostegno agli stati membri tramite delle misure di emergenza per cercare di adottare quelle misure necessarie per eliminare questi focolai di gravi malattie perché hanno naturalmente un impatto. Grazie. I verdi ora. Daniel Fron, sei minuti per domande e risposte. Grazie al Presidente. Innanzitutto, grazie a Monica Holmeier che per la prima volta ha parlato di questo, vale a dire di parlare dei miglioramenti che sono stati fatti e quello che non è stato fatto. Vediamo che quando tutte le autorità belghe dicono di restare a casa e lavorare da casa, noi invece siamo qua a lavorare in presenza. Quindi questo non fa ben sperare. Una domanda. Viola Fancamon non può essere qua, quindi la faccio a suo nome. Grazie Commissario per essere qua. L'adozione della strategia del 2020 dall'azienda agricola al piatto è stato un grosso risultato per il sistema di fornitura alimentare mondiale. Ora, l'attuazione di questa strategia, come è andata? In che fase il sistema dell'itecchettatura sostenibile può essere inserita? Per quanto riguarda, non so, come si può fare in modo che il lavoro minorile non sia qualcosa che viene utilizzato in questo settore. Poi, 2020-2024, su questo piano lei ha detto che si vuole che la capacità di regolamentazione degli stati membri sia rafforzata, un coordinamento tra vari settori che coinvolga anche gli stati non ancora membri ma in via di adesione e poi anche altri aspetti che riguardano i rischi epidemiologici. Ma che cosa si fa in pratica per affrontare il coordinamento quando ci sono delle minacce trasfrontaliere sanitarie? Si vuole integrare in alcuni di questi programmi, anche a livello farmaceutico, quei paesi non ancora membri dell'Unione, soprattutto quando si tratta di forniture e stato di preparazione in questi paesi. E poi informazione o disinformazione per il Covid, uno dei grossi problemi nella lotta contro il virus in Europa. Probabilmente le peggiori conseguenze le si vedono nei livelli della vaccinazione. 33% in Romania e 21% in Bulgaria. Che campagna di comunicazione si sta pensando? Una campagna sui media sociali non è qualcosa che si sta studiando per affrontare questa problematica e per togliere di mezzo certi contenuti di disinformazione da parte di altre istituzioni o anche di altri potenzi e altri Stati? Prego, Commissaria. La strategia dall'azienda agricola dalla produzione al piatto maggio 2020 è stata una parte molto importante del Green Deal, ma anche di più direi. Uno dei motivi per cui, se lei ricorda e si ricorderà, nel maggio 2020 eravamo in un momento difficile, c'era il lockdown per la pandemia. Ebbene, abbiamo pensato che questa fosse una strategia molto importante. Abbiamo stabilito degli obiettivi, proprio perché la pandemia ha messo in luce il fatto che è importante un'unica salute. Cioè c'è tutta una serie di connessioni tra i vari settori. La salute fitosanitaria, la salute animale ha a che fare con la salute umana. Quindi, in un certo senso, Farm to Fork è diventato il pilastro per procedere anche in futuro, in termini di protezione e di stato di preparazione. Signor Hudson, ci potrà dare il dettaglio, però posso già aggiungere che la normativa per il cibo sostenibile procede bene per il 2023. Poi l'etichettatura dovrebbe avvenire, cioè l'armonizzazione dell'etichettatura dovrebbe avvenire nel 2022. Noi procediamo in questo senso, perché riteniamo che sia importante che i consumatori abbiano questa informazione, possano fare delle scelte informate. Quindi direi che il Covid-19 non ha avuto un impatto negativo sull'attuazione del Farm to Fork, ma ha reso questo programma persino prioritario nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Per quanto riguarda le malattie infettive, contagiose, noi abbiamo un programma, l'Unione per la Salute, e rientrano qua i nostri sforzi. Noi stiamo facendo molto in questo quadro, in questa struttura, e poi anche il regolamento trasfrontaliero nuovo e in discussione. Ecco, è a questo livello che si lavora. Poi lei ha citato nell'ultima sua domanda il tasso di vaccinazione e ha chiede cosa abbiamo fatto. Per alcuni degli stati membri che sono confrontati con questa sfida, alcuni li ho visitati prima dell'estate, perché controlliamo sempre con il centro delle malattie europeo il tasso di copertura vaccinale. Abbiamo visto che, anzi se mi permettete, non si può affrontare questa crisi sanitaria come è la pandemia, sulla base di quello che succede adesso. Dobbiamo vedere anche quello che potrebbe succedere in futuro, cioè la stagionalità, i mesi più avanti, proprio per i certificati vaccinali. Si sono sentiti una situazione difficile. Quindi magari facendo questa analisi in prospettiva si possono vedere i problemi più avanti. Gli stati membri naturalmente hanno una difficoltà nell'affrontare questa situazione, quindi siamo qua per sostenerli. Ecco, io ho cercato di capire quelle che sono le sfide specifiche di ogni paese. Questo facciamo. Vediamo queste sfide e poi ci rivolgiamo al centro europeo per delle malattie, i CDC, per vedere cosa si può fare per migliorare la sensibilizzazione per raggiungere una copertura vaccinale maggiore. Quindi a due livelli, Giammo. Messaggi comuni europei e poi messaggi specifici a livello di Stato membro. Io personalmente ho incontrato più volte i ministri della Sanità di questi paesi che hanno bassa copertura vaccinale perché chiedo loro cosa possiamo fare per mobilitare il meccanismo di protezione civile prima che si trovino con le urgenze piene e sature. Mi dispiace di dovermi prolungare la discussione però non l'ho mai potuto fare prima. Noi stiamo affrontando una situazione che costantemente cambia, quotidianamente. E bisogna affrontare questa situazione ma dobbiamo anche affrontare la questione del futuro e qua le nostre agenzie ci aiutano e dobbiamo lavorare per questo anche con gli Stati membri perché raggiungono questo livello di preparazione. Quindi è uno sforzo a molti livelli e ritorno da dove sono iniziata. Il concetto di un'unica salute è diventato un concetto pragmatico quindi e tutti gli obiettivi che abbiamo presentato nel 2020 sono conformati a questa nostra idea. Grazie, bene, credo che abbia già detto tutto però magari posso aggiungere qualcosa sulle proposte che sono previste per il programma Farm to Fork pesticidi primavera del 2022 non feed estate 2022 e l'etichettatura alla fine del del 2022. Queste sono le date. vorrei anche dire che nelle risposte per iscritto c'è una risposta molto molto approfondita e dettagliata tre pagine per affrontare la disinformazione lì si trova tutto e poi volevo aggiungere a quanto ha detto la Commissione il programma l'Unione per la Salute con l'OMS e altre parti sta vedendo di occuparsi non solo dell'Unione ma anche dei paesi vicini quindi ci aspetteremmo che il programma di lavoro che si sta preparando per il prossimo periodo includerà anche questi aspetti. grazie non ci sono altri che desiderano intervenire da parte degli altri gruppi perché qua non c'è più nessun altro se qualcuno dei presenti vuole fare qualche domanda abbiamo tempo Petri è rimasta qualche domanda? se volete cogliere l'occasione per ribadire qualche domanda prego prego Petri adesso visto che abbiamo un po' di tempo per essere un po' più specifici vorrei approfondire la domanda su AstraZeneca e gli eventi sfortunati legati a AstraZeneca la Commissione come ha garantito che i fondi pagati i finanziamenti pagati per lo sviluppo dei vaccini cioè i finanziamenti che sono stati pagati per lo sviluppo dei vaccini fossero utilizzati esclusivamente per questo fine sarebbe molto interessante avere maggiori informazioni dettagliate di come questa cosa sia stata garantita e quali controlli sono stati eseguiti per questa finalità commissaria prego a facoltà grazie per la domanda torniamo indietro un attimo come vi ricorderete nel 2020 abbiamo concluso sei accordi contratti di acquisto anticipato di 2,5 miliardi di euro avevamo entro la fine di gennaio tre società moderna AstraZeneca e Pfizer hanno ricevuto un'autorizzazione condizionale mentre a marzo abbiamo avuto l'autorizzazione per Janssen è importante capire una cosa quando abbiamo lanciato la strategia europea per i vaccini abbiamo negoziato gli accordi anticipati di acquisto e non sapevamo quale vaccino sarebbe stato prioritario disponibile prima voglio anche dire per AstraZeneca che abbiamo avuto delle difficoltà di consegna ed è per questo motivo che abbiamo adottato tutta una serie di misure per quanto riguarda il calendario e le forniture tutto questo era definito dagli accordi sull'acquisto anticipato la Corte dei Conti sta conducendo ora un audit un audit molto importante stiamo aspettando le risultanze di questo audit nei contratti di acquisto anticipato che abbiamo siglato erano fissati i tempi di consegna di produzione per avere tutte le garanzie di fornitura dei vaccini grazie altre domande l'onorevole Chastel prego vuole fare qualche commento sembrerebbe di no se vuole adesso concludere la commissaria prego a facoltà se ha qualche postilla da fare volevo solamente ringraziarvi di questa opportunità continua a essere un periodo molto impegnativo però sono certa e come ha detto anche l'onorevole parlamentare sono certa che la situazione che abbiamo affrontato soprattutto per quanto riguarda AstraZeneca non è stata ottimale ed è per questo motivo che c'è stata una causa alla Corte negli ultimi mesi la nostra priorità è stata quella di garantire la salute pubblica proteggendola trovando la soluzione più efficace per porre fine a questa pandemia e a quello che abbiamo fatto io con la mia squadra siamo pienamente impegnati a garantire la totale trasparenza fornendo tutte le risposte necessarie perché per noi questo è cruciale poter andare avanti e superare la pandemia grazie per questa opportunità e aspetto gli incontri futuri di nuovo spero in presenza grazie 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 per tutti i suoi interventi e grazie perché è stata concreta nelle sue risposte e grazie a tutti coloro che sono intervenuti avete rispettato i tempi quindi siamo stati molto efficienti e visto che alcuni relatori ombra mancavano abbiamo avuto più tempo ma tutti diciamo avete avuto il tempo di intervenire bene ci rivediamo le 16.45 buonasera benvenuti alla riunione della commissione di controllo di bilancio che prevede l'audizione dei segretari generali e dei direttori generali delle istituzioni nel contesto della procedura di discarico per l'esercizio 2020 innanzitutto desidero dare il benvenuto a tutti coloro che sono presenti qui in sala era tanto che non avevamo una sala così piena di persone quindi un caloroso benvenuto a tutti siamo contenti di tornare in presenza e un benvenuto anche a Mare Copiola della Corte dei Conti la procedura che seguiremo è la seguente innanzitutto interverrà Mare Copiola per 5 minuti per la sua presentazione poi ciascuna istituzione avrà 5 minuti di parola per una prima introduzione poi interverrò in qualità di relatrice per le altre istituzioni e poi apriremo il dibattito in seguito appunto al mio intervento poi darò la parola ai relatori ombra ciascuno avrà 5 minuti di parola però non faremo un sistema ping pong botta risposta proprio per dare più tempo a chi dovrà rispondere che è quello che ci interessa quindi 5 minuti per i relatori ombra tutti uno dopo l'altro poi sentiremo le risposte dei rappresentanti delle altre istituzioni e se ci saranno punti sui quali non saranno state date le risposte daremo di nuovo la parola ai relatori ombra che non dovessero ritenersi soddisfatti credo che sia il modo più efficiente di organizzare la discussione e così risparmieremo un po' di tempo e accorporeremo le tematiche però invito tutti a essere il più possibile schematici e succinti e invito i rappresentanti delle altre istituzioni a rispondere a tutte le domande che verranno loro rivolte se rimarrà tempo faremo anche un giro di interventi liberi a chi desidererà intervenire quindi senza ulteriori indugi sentiamo la presentazione del rappresentante della Corte dei Conti prego dottor Opiola a facoltà per 5 minuti buon pomeriggio signora Presidente signora Relatrice onorevoli membri della commissione di controllo di bilancio è un piacere presentarvi quest'oggi il capitolo 9 della relazione annuale della Corte dei Conti capitolo che riporta la valutazione specifica della spesa amministrativa per tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea nel 2020 i pagamenti a titolo della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale ammontano a 10,3 miliardi di euro cioè circa il 6% del bilancio dell'Unione Europea di questo importo la valutazione della spesa da parte della Corte è positiva non avendo riscontrato errori materiali il nostro campione per quest'anno è costituito da 48 transazioni 22 delle quali riguardano la Commissione le altre le altre istituzioni cioè 3 per il Consiglio 2 per la Corte di Giustizia e una per ciascuna delle seguenti istituzioni Corte dei Conti Comitato Economico e Sociale Comitato delle Regioni e DPS e Mediatore Europeo nessuna di queste transazioni è viziata da errori pertanto non abbiamo osservazioni specifiche o raccomandazioni dedicate per le altre istituzioni e organi a partire dall'esame di queste transazioni in parallelo abbiamo esaminato i sistemi di controllo e di supervisione del Consiglio e del Mediatore Europeo e non abbiamo riscontrato particolari criticità quest'anno il capitolo 9 include anche un audit specifico relativo alla crisi della Covid-19 abbiamo esaminato un campione di 15 procedure di appalto facenti capo a 5 istituzioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale personale per il 2020 in ciascun caso abbiamo esaminato la giustificazione fornita per l'utilizzo di una particolare procedura di appalto e i relativi esiti e per queste istituzioni abbiamo esaminato le procedure del Consiglio della Corte di Giustizia per quanto riguarda le mascherine e le camere termiche entrambi le istituzioni hanno utilizzato le procedure di appalto negoziate come previsto da regolamento finanziario non abbiamo osservazioni specifiche per quanto riguarda le procedure della Corte di Giustizia per il Consiglio in due casi per l'acquisto di mascherine chirurgiche e in tessuto abbiamo verificato che il Consiglio aveva fissato dei requisiti minimi stringenti nelle specifiche per l'appalto incluso la data di consegna tuttavia in un caso l'azienda che ha vinto l'appalto non aveva incluso prove evidenti di tutti i requisiti minimi che erano stati previsti dal contratto in riferimento ad esempio agli standard di qualità per le mascherine chirurgiche il Consiglio conseguentemente ha organizzato dei testi laboratorio sulle forniture ricevute che hanno dimostrato che le mascherine ottemperavano ai requisiti di qualità necessari per l'utilizzo da parte del personale chiaramente l'acquisto emergenziale di attrezzature nel corso della pandemia è stata una procedura complessa a causa della concorrenza tra le autorità e i paesi noi verificheremo la questione della resilienza delle istituzioni dell'Unione Europea durante la pandemia in una relazione speciale che sarà pubblicata nel terzo trimestre del 2022 signora Presidente signora Relatrice onorevoli parlamentari rimango a vostra disposizione per ogni eventuale domanda e chiarimento che vorrete chiedermi grazie per la vostra attenzione grazie grazie a questo scambio per il discarico 2020 per tutti noi il 2020 è stato un anno eccezionale segnato dalla pandemia anche per la Corte Giustizia e abbiamo gestito la crisi per tre obiettivi interdipendenti la protezione della salute del personale e di tutti coloro che entravano nei nostri edifici assicurare la continuità delle attività giudiziarie e seguire il nostro personale in questo periodo difficile e le conseguenze della crisi si riflettono in certa misura anche le statistiche giudiziarie infatti per quanto riguarda i casi presentati nel 2020 e nel 1952 è un numero inferiore rispetto all'anno precedente perché c'è stato un rallentamento dell'attività nelle giurisizioni nazionali a causa della crisi ma questa cifra è vicina a quella del 2018 o 2017 in termini di grandezza e per quanto riguarda le cause chiusi in 1640 quindi una diminuzione dell'11% rispetto all'anno precedente 2019 e la Corte nella sua giudizione ha continuato con la sua attività normale comparabile a quella del 2017 o addirittura superiore al 2016 malgrado la crisi e la sospensione delle udienze per più di due mesi e poi per quanto riguarda la durata media delle procedure per le due giudizioni e del 15,5 mesi rispetto al 6,9 del 2018 quindi un risultato soddisfacente che dimostra qual è l'impegno costante della Corte nella gestione dei procedimenti abbiamo ottenuto questi risultati grazie a varie misure la Presidente lo interrompe se desidera può togliersi la mascherina mentre interviene per un migliore suono dice la Presidente chiedo scusa per interruzione grazie Presidente dunque le misure attuate per attenuare l'impatto della crisi sono state di vario genere ad esempio la creazione di un sistema di telelavoro generalizzato sin dall'inizio della crisi e abbiamo dotato i membri e il personale per il telelavoro la limitazione dell'accesso alle nostre sedi al personale indispensabile e abbiamo sempre adattato le misure seguendo l'evolversi della crisi e della legislazione del Lussemburgo in modo da evitare la propagazione del virus negli edifici e abbiamo anche attuato dal 25 maggio per la Corte di Giustizia sino al 30 giugno e dal 30 giugno per il Tribunale di un sistema di teleconferenza con interpretazione simultanea per le audizioni in tutte le lingue disponibili e naturalmente questo ha superato il valore dell'eccellenza dell'ombudsman europeo per il 2020 abbiamo sempre mantenuto i nostri collegamenti anche attraverso le rete sociali per informare i vari rappresentanti delle parti rispetto allo svolgimento dell'attività giudiziaria nel contesto della crisi con una particolare attenzione che è stata rivolta a mantenere e a preservare la salute del personale con un sostegno medico e psicologico rafforzato con un'offerta anche di formazione ampliata rispetto ai contenuti e rispetto alle modalità offerte con la realizzazione anche di sondaggi 2020-2021 per i personali in membri della Corte la Corte ha continuato ad attuare la sua strategia di trasformazione digitale con ottimi risultati e la nostra applicazione e-curia ha visto aumentare del 12% il numero degli accessi 7.380 rispetto al 2020 e ha siglato un contratto per un sistema integrato di gestione delle cause già previsto nel rapporto della Corte dei Conti nel 2017 con lo sviluppo nel 2021 di un progetto pilota per la realizzazione del sistema stesso e la Corte nel 2020 ha poi concluso un accordo con la Commissione per un sistema di gestione di documenti amministrativi e per la firma elettronica il tasso di esecuzione dei crediti è stato del 94% e del 97% dell'occupazione degli spazi abbiamo anche presentato la nostra relazione sull'attività del tribunale per il periodo 2015 e 2024 per quanto riguarda l'anno 2020 e la rappresentanza femminile per i quadri è stata superiore rispetto all'anno precedente e la Corte si è vista anche rinnovare il contratto in massa da parte del Ministero competente del Lussemburgo quindi sono a vostra disposizione per qualunque tipo di domanda grazie grazie continuiamo prego Zacharia Colis che è il segretario generale della Corte dei Conti anche qui 5 minuti grazie Presidente membri della Commissione Conti per me è un onore essere qui con voi e presentarvi i lavori della Corte Europea dei Conti il 2020 è stato caratterizzato da tante sfide per la nostra istituzione molte di queste causate dal Covid-19 e malgrado le difficoltà di questo anno difficile la crisi però non ha portato a una interruzione significativa dei nostri lavori infatti abbiamo pubblicato per tempo le reazioni annuali abbiamo pubblicato 32 reazioni speciali e altre tante revisioni abbiamo fatto il punto sull'attuazione della nostra strategia 2018-2020 abbiamo prodotto una nuova strategia 2021-2025 e per la prima volta nel 2020 abbiamo anche realizzato un esercizio pilota per preparare una reazione annuale sulla performance dei programmi di spesa sotto legge del bilancio dell'UE abbiamo anche emesso un numero record di pareri 11 in totale le condizioni di lavoro che ci siamo visti imporre a livello sanitario hanno portato a un adattamento dei metodi di lavoro ad esempio nel 2020 abbiamo osservato un calo del 70% nel numero di giorni di audit in loco una tendenza che ora lentamente va nella direzione opposta ciò non ha avuto per un grosso ostacolo non ha avuto un grosso impatto sulla durata delle audit ma si ha inciso sul livello di individuazione del rischio siamo molto orgogliosi poi della possibilità di passare al telelavoro in modo rapido e efficiente nel giudì pochi giorni tutto lo staff e il personale esterno sono passati al telelavoro immediatamente infatti le infrastrutture e i dispositivi già erano disponibili così siamo riusciti a garantire la continuità della nostra operatività con delle relazioni virtuali e ibride con soluzioni di voto elettronico con procedure eccezionali per le riunioni della Corte del Comitato Amministrativo e vediamo quest'anno in una diversa prospettiva abbiamo profuso molti sforzi per il benessere del nostro personale abbiamo spesso ricordato ai nostri manager l'importanza di mostrare flessibilità per il personale per le responsabilità di cura rispetto alle famiglie per il servizio medico e così via e abbiamo anche messo l'accento su delle comunicazioni frequenti con il nostro personale e addirittura all'inizio della crisi lo facevamo quotidianamente ora parlando di un altro settore veniamo alla gestione del bilancio siamo riusciti a individuare per tempo il nostro fabbisogno di bilancio con surplus previsto e abbiamo utilizzato le risorse liberate da altre linee di bilancio come ad esempio le risorse addizionali per la parte informatica e la possibilità di acquisire le attrezzature protettive e i costi aggiuntivi delle misure sanitarie che si sono rese necessarie poi nel 2020 abbiamo anche realizzato una revisione del codice di condotta per i membri attuali e presenti della Corte dei Conti con delle raccomandazioni di una peer review pubblicata nel 2019 questo lavoro è ancora in corso e continuiamo a aggiornare le regole che sono applicazione ai nostri rivisori e al nostro personale ci adoperiamo sempre per raggiungere gli obiettivi per diversità e inclusione siamo a un 40% di donne in posizione di management e nel 2020 il 33% dei direttori e dei manager sono donne il 29% per la fascia media dei quadri speriamo di avere delle cifre migliori l'anno prossimo perché ripeto per il momento siamo al 36% per tutte le posizioni management e al 37% per il management medio per le revisioni sono pronta a rispondere alle vostre domande grazie ed ora continuiamo con di viaggio di viaggio per i nostri membri ma questo tasso di esecuzione ci ha anche consentito di effettuare degli investimenti informatici e di adottare delle misure per la prevenzione e protezione della salute sempre per garantire la continuità dell'operatività dell'operatività del comitato e poi altro fatto importante per noi garantire il follow up dell'iscarico 2019 per quello il Parlamento ha espresso critiche importanti rispetto alla nostra istituzione quindi ci siamo concentrati sulle questioni di etica e integrità e ciò ci ha portato a due risultati notevoli all'inizio di quest'anno c'è un nuovo codice di condotta per i nostri membri che prevede anche delle sanzioni più importanti nel caso di una infrazione di talune e disposizioni sul luogo di lavoro e c'è un altro quadro per l'etica del personale e un accordo di servizio con la Commissione europea per la gestione di sondaggi in teni in materia di violazione dello statuto e poi abbiamo anche il programma per attuare la funzione del mediatore interno seguendo una delle raccomandazioni del Parlamento dell'anno scorso chiaramente la Covid ha avuto un forte impatto sul funzionamento della nostra istituzione con due sfide fondamentali proteggere la salute la sicurezza del personale dei membri e d'altro canto garantire la continuità della nostra attività quindi abbiamo creato un sistema di tele lavoro generalizzato mettendo a disposizione dei nostri collaboratori degli strumenti che consentono il telelavoro e per quanto riguarda la gestione delle riunioni abbiamo dotato le sale di un sistema di interpretazione a distanza con un sistema di voto a distanza per delle riunioni ibride ecco con queste condizioni abbiamo avuto per la prima volta una nostra plenaria ibrida e questo a partire da maggio scorso e naturalmente il luogo di lavoro ibrido si è anche ampliato a tutte le altre organizzazioni politiche del nostro comitato quindi la crisi della covid ci ha permesso di migliorare la nostra agilità logistica ma soprattutto di collaborare di più con altre istituzioni come il comitato delle regioni perché con loro abbiamo collaborato per proteggere la salute dei lavoratori ma anche con il Parlamento europeo infatti abbiamo firmato un accordo per l'accesso al centro di test per i nostri membri e poi anche con la commissione abbiamo un accordo per estendere la vaccinazione al personale della nostra istituzione e qui ora mi ricollego al discorso della cooperazione con le altre istituzioni questo è vitale per una piccola istituzione come la nostra che vuole essere efficace con il Parlamento abbiamo portato avanti la collaborazione per l'interpretazione con dei contatti anche per la sicurezza per la gestione delle sali di riunioni e abbiamo anche concluso vari accordi di servizio con la commissione ma soprattutto siamo fieri di una cosa e cioè i negoziati con il Comitato delle Regioni per la revisione dell'accordo di collaborazione tra noi questo nuovo accordo è entrato in vigore a novembre scorso e prevede ulteriori sinergie per quanto riguarda le risorse umane il coordinamento anche nei servizi medicali di gestione delle sale traduzione ed anche la politica informatica delle due istituzioni ma sempre nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e poi parliamo degli obiettivi ambientali abbiamo la certificazione Emas e ci siamo impegnati ormai da anni per ridurre ancora di più il consumo di elettricità dell'acqua e diminuire la quantità di rifiuti prodotti e poi come contrastare l'emissione di carbonio ebbene abbiamo un modo per contribuire allo sforzo in tal senso assieme a Parlamento e Banca Centrale partecipiamo infatti a un appalto congiunto e più di recente abbiamo anche una nuova iniziativa a livello del personale invitiamo il nostro personale a usare modi di trasporto meno inquinanti in occasione di missioni per conto del nostro comitato e poi vi parlo del benessere sul posto di lavoro come le altre istituzioni anche noi abbiamo dovuto affrontare il problema di stacco del personale infatti il nostro personale è soprattutto composto da persone che provengono dall'estero hanno avuto il problema della chiusura delle frontiere e dunque abbiamo permesso il massimo della flessibilità anche per case individuali per far sì dunque che ci fosse sempre un legame con l'amministrazione infine parliamo dell'equilibrio geografico e di genere per quanto riguarda il primo elemento siamo al 20% per le posizioni di management per gli stati membri che hanno aderito nel 2004 e dopo e poi per quanto riguarda l'equilibrio di genere per le posizioni di management circa il 50% dei quadri intermedi sono occupati da donne mentre per il senior management siamo più o meno sul 40% sono delle cifre che presentiamo con orgoglio ma viste le dimensioni della nostra istituzione sappiamo che ci può essere poi un impatto per delle scelte individuali o per dei pensionamenti e questo poi potrebbe cambiare l'equilibrio in conclusione vorrei aggiungere che il Cese ha dimostrato agilità e dinamicità per far fronte alle sfide e anche alle raccomandazioni del Parlamento per le reazioni precedenti abbiamo cercato di affrontare la pandemia mantenendo la funzione consultiva della nostra istituzione anche in situazioni imprevedibili sia per voi che per noi come responsabile dell'amministrazione grazie grazie d'ora la parola al signor Biscovski segretario generale del Comitato delle Regioni spero di aver pronunciato bene il suo nome prego a 5 minuti a facoltà grazie mille Presidente per l'invito che mi è stato rivolto e vorrei fornirvi alcune informazioni sulle attività da noi svolte al Comitato delle Regioni ci siamo concentrati su tre assi principali sull'impatto politico capirete che le amministrazioni locali e regionali sono state in prima fila con il Covid per cui questo è un punto che si è riflesso nel nostro lavoro politico il benessere del personale e l'ammodernamento concreto della nostra amministrazione per quel che riguarda il lavoro politico noi facciamo parte del regolamento che prevede una valutazione dell'impatto territoriale abbiamo organizzato un'attività di raggiungimento di un milione di politici eletti li stiamo impegnando negli eventi per i consiglieri locali e siamo anche molto attivi nella conferenza sul futuro dell'Europa e tra parentesi abbiamo creato un gruppo ad alto livello presiduto dal signor che fornisce un parere indipendente e questo lavoro è appoggiato dal progetto sull'impatto che è un sostegno amministrativo al lavoro politico due parole ora sull'equilibrio di genere e sulla gestione delle risorse umane sono molto lieto che abbiamo potuto migliorare la partecipazione delle donne nell'alta direzione e ci avviciniamo all'obiettivo del 40% mancano tre punti percentuali cioè una nuova direttrice in una alta posizione è stata nominata quest'anno e abbiamo anche ammordernato e reso più flessibile le nostre condizioni di telelavoro per quello che riguarda la semplificazione noi stiamo introducendo il digitale nei nostri servizi nello storno dal bilancio dello scorso anno abbiamo migliorato la nostra capacità informatica abbiamo creato una forza dedicata per ridurre la burocrazia e stiamo riducendo naturalmente 55 stiamo sedendo 55 regolamenti o istruzioni che non sono più necessarie per quello che riguarda la comunicazione questo è un punto molto importante ci siamo concentrati sulla comunicazione soprattutto durante il covid e dei risultati che abbiamo ottenuto sono che i capo perveresti sono per una portata media più il 50% per invece un outage digitale più il 20% per quello che riguarda il contatto il codice diontologico chiedo scusa per i nostri membri che è stato adottato due anni fa e che è stato attuato lo scorso anno con successo soltanto 2% dei nostri membri ancora non sono riusciti a fornirci le loro informazioni per cui abbiamo deciso di indicare il tutto sul nostro sito web un punto molto importante che vorrei sottolineare riguarda una questione di lungo termine che si è posta con un ex membro del nostro personale il signor McCoy un informatore è stata una storia di 20 anni e qui vorrei ringraziare il signor Mituzza ex relatore e la signora Infeldt mediatrice del Parlamento grazie al loro aiuto infatti e grazie all'aiuto del nostro presidente siamo riusciti a divenire ad un accordo politico per scusarci dal canto nostro e nella seconda parte abbiamo anche potuto accordarci su una compensazione finanziaria e l'accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione della signora Infeldt che vorrei ringraziare per il suo aiuto per quel che riguarda la cooperazione interistituzionali noi abbiamo firmato la nostra nuova generazione di accordi con la nostra organizzazione Sorella come è stato detto abbiamo firmato il primo novembre e si tratta di un accordo più moderno che apre la porta ad una nuova cooperazione fatto importante per una piccola istituzione come la nostra vorrei anche citare il fatto che i nostri membri hanno ancora l'impressione che manchino risorse adeguate per il loro lavoro politico infatti in quanto politici eletti essi tuttora ritengono di non disporre di risorse sufficienti e a tal proposito noi prendiamo atto dei punti 16, 17 e 18 della relazione dello scorso anno che presenta appunto una relazione sulle misure formali tra amministrazione del Parlamento e il nostro comitato pensiamo che vi siano alcuni problemi e saremo molto lieti di poterli risolvere vorrei poi anche citare un punto che riguarda l'esecuzione finanziaria la nostra percentuale di esecuzione finanziaria è stata del 92% a causa della pandemia perché di solito le nostre cifre sono migliori però a causa della pandemia la cifra è questa e noi ci siamo avvalsi di risorse non spese per rafforzare il nostro sistema informatico in cinque storni sarò molto lieto di rispondere alle vostre domande molte grazie per avermi ascoltato grazie mille ora tocca alla signora Cesira Daniello segretario generale del mediatore europeo prego cinque minuti grazie grazie signora presidente per avermi dato la parola e grazie per questa occasione annuale che abbiamo di presentare le nostre attività mi accompagna il nostro nuovo direttore amministrativo maripi adasci il nostro lavoro nel 2020 ha cercato di garantire una continuità durante la pandemia come è avvenuto per tutti quanti e abbiamo anche cercato di riformare la struttura organizzativa pensavamo che ciò fosse necessario al fine di sostenere l'attuazione della nostra nuova strategia quinquennale in direzione del 2024 per quanto attiene al nostro lavoro durante la pandemia noi abbiamo ci siamo adattati velocemente alla situazione lavorando al 100% in remoto vorrei soprattutto concentrarmi su come sono state svolte le indagini le inchieste che sono la nostra attività principale non abbiamo avuto alcun impatto negativo del Covid-19 sul numero di ricorsi che abbiamo ricevuto e che abbiamo trattato durante l'anno le cifre sostanzialmente sono state paragonabili a quelle degli anni scorsi nel 2020 abbiamo aperto 365 inchieste e ne abbiamo chiuse 392 abbiamo aperto meno inchieste rispetto al 2019 però queste inchieste anzi sono stati di più i casi che sono stati disegnati come di importanza pubblica il che significa che i risultati delle indagini si rivelano importanti per gruppi più estesi e non soltanto per i singoli ricorrenti i casi sono stati trattati più velocemente con un tempo medio che è sceso da 64 a 36 giorni e il tempo medio per concludere un'inchiesta è sceso da 208 a 183 giorni questi guadagni di efficienza non sono avvenuti a scapito della qualità delle indagini e questo anche grazie all'introduzione progressiva di nuove procedure i casi ora sono discussi sistematicamente non soltanto con la direzione ma anche in revisioni tra pari e con gli esperti giudici vorrei ora fornirvi dati su alcune inchieste basate sulla base dei ricorsi un'inchiesta ha esaminato la decisione dell'autorità bancaria europea di permettere al suo allora direttore esecutivo di prendere posizione in qualità di amministratore delegato di un'associazione che rappresentava le banche e altre istituzioni finanziarie l'ombudsman ha raccomandato che si fissino dei criteri chiari per l'alto personale perché passi a nuovi posti di lavoro una volta che è noto che ci sono questi trasferimenti di personale ovviamente bisogna restringere immediatamente l'accesso alle informazioni riservate siamo lieti di osservare che l'autorità bancaria europea ha accettato di attuare le raccomandazioni dell'ombudsman in un altro caso vi è stata un'inchiesta su come la commissione approvi le sostanze attive usate negli antiparassitari e ha suggerito tra l'altro che la commissione dovrebbe approvare sostanze basate soltanto sugli usi autorizzati o confermati dall'autorità alimentare europea e che il processo di approvazione dovrebbe essere del tutto trasparente due parole ora sul nostro lavoro strategico soprattutto in periodo di pandemia nel mese di aprile il mediatore ha iniziato a esaminare il lavoro della nuova amministrazione nel contesto della crisi e ha ricordato alla commissione del consiglio i loro obblighi in materia di trasparenza che erano altrettanto importanti anche durante la crisi nel mese di luglio l'ombudsman ha aperto due indagini di iniziativa propria una sul ruolo del centro europeo per il controllo delle malattie nel raccogliere e nel comunicare informazioni relative alla pandemia e l'altra inchiesta invece verteva sulla procedura decisionale eccezionale istituita dal consiglio nel contesto della pandemia anche nel mese di luglio abbiamo lanciato tre iniziative di cui una riguardava l'agenzia europea del farmaco e i farmaci legati al covid una seconda riguardava la commissione e la trasparenza delle procedure di appalto una terza invece verteva sulla banca europea degli investimenti e sulla trasparenza dei fondi legati alla crisi infine vorrei spendere due parole su altre due linee di attività noi abbiamo continuato i nostri sforzi volte ad accrescere la visibilità del nostro lavoro abbiamo aumentato l'uso di articoli online e abbiamo esteso l'uso delle piattaforme sui social l'ombudsman ha regolarmente concesso interviste ai media nel corso dell'anno abbiamo anche continuato ad aumentare la cooperazione con la rete europea dei difensori civici nazionali organizzando una conferenza per il 25esimo anniversario dell'ombudsman europeo e abbiamo pianificato inoltre webinar regolari con i membri dell'organizzazione tre webinar si sono svolti nel 2021 e abbiamo anche pianificato una conferenza importante che si dovrà tenere a Strasburgo dell'aprile prossimo che sarà organizzata in collaborazione con il difensore civico francese sotto l'ombrello della presidenza francese per quel che riguarda infine la nostra riorganizzazione i nostri obiettivi principali erano tre a crescere l'efficacia e l'efficienza del processo d'inchiesta agevolare la comunicazione interna il coordinamento e il lavoro di collaborazione e dotare il personale di maggiore autonomia per garantire versatilità flessibilità e mobilità a tal fine abbiamo anche ridotto gli strati gestionali i livelli gestionali e posso riferire che consultiamo regolarmente il personale sono lieta di poter dire che vi sia un sostegno pieno e una soddisfazione in materia del nuovo assetto dei nuovi metodi di lavoro sul bilancio abbiamo raggiunto un tasso di attuazione del 94 9% ben al di sopra del nostro KPI e al di sopra dei risultati del 2019 per quel che riguarda le questioni del personale esercitiamo un massimo di flessibilità con le organizzazioni del lavoro durante la pandemia naturalmente bilanciando il bisogno della continuità lavorativa con la vita privata del personale abbiamo adottato il nostro personale della possibilità di lavorare pienamente da casa inoltre sono state adottate misure per il benessere del personale compreso il sostegno individuale di squadra tramite coaching riunioni online riunioni informali messaggi da parte dell'ombudsman informazioni sui servizi di sostegno e aiuto abbiamo appena promulgato la nostra nuova politica strategica sull'orario del lavoro e il lavoro ibrido e questo con il pieno appoggio del personale e della direzione sapete che noi continuiamo ad aumentare la cooperazione interistituzionale visto che siamo un'istituzione molto piccola e lo facciamo a tutti i livelli e volevo concludere mi scuso se ho sforato dicendovi che nel 2020 abbiamo risistemato la nostra sede di Bruxelles e la settimana scorsa l'abbiamo traslocata e adesso abbiamo personali direttori che sono molto soddisfatti del nostro nuovo spazio collaborativo che tiene conto dell'efficienza energetica ed anche uno spazio ecologico molte grazie per l'attenzione siamo a vostra disposizione per rispondere ad ulteriori domande grazie Leonardo Ferbera per il garante della protezione dei dati grazie donna Isabel grazie per avermi dato la possibilità di intervenire in questa commissione parlamentare a nome del garante europeo per la protezione dei dati Marian Sanchez e la mia assistente Sonia Perez sono qui lei mi ha aiutato a preparare questa presentazione nei cinque minuti a disposizione della mia istituzione presenterò i punti salienti del 2020 in termini generale introdurrò le informazioni di bilancio rilevanti rispetto all'esercizio dell'anno scorso e formerò qualche conclusione comincio con i punti salienti per il 2020 come annunciato l'anno scorso in questa stessa occasione voce voce chieverovski è diventato il nostro nuovo supervisore nel settembre la nuova strategia del nostro garante incorpora nuove idee e raccoglie le nuove sfide in materia di protezione dei dati anche quelle relative alla cosiddetto new normal la nuova normalità immersa nella fase post covid ma questa non è una cesura rispetto al passato ma è una linea di continuità rispetto al precedente mandato noi siamo fermamente convinti che l'adozione del gdpr alla quale il garante ha fattivamente contribuito è un vero fiore all'occhiello la gdpr è diventato veramente uno standard globale e mette l'europa all'avanguardia non soltanto in termini di protezione della privacy dei cittadini ma anche per quanto riguarda un'innovazione sostenibile questo non significa che tutto sia perfetto e che i problemi siano tutti risolti e che possiamo cullarci sugli allori al contrario come sottolineato dalla commissione nella sua ultima relazione sul gdpr rimane ancora spazio di miglioramento soprattutto per quanto riguarda un'interpretazione coerente un'applicazione coerente del regolamento questo fa capo ovviamente al nuovo corpo istituito il board l'edpb che è un organo indipendente a cui l'edps partecipa in quanto membro e che fornisce servizi di segretariato da questo punto di vista noi ci basiamo sul sostegno del parlamento contiamo sul sostegno del parlamento per un appoggio politico per questa iniziativa di lungo respiro per rendere il segretariato indipendente e in grado di beneficiare delle adeguate risorse il gdpr è un fiore all'occhiello per le istituzioni la protezione dei dati è migliorata anche per le istituzioni e gli organi dell'unione europea dall'entrata in vigore del regolamento il regolamento dell'unione europea nel 2019 dopo il gdpr ha acceso un faro sulla protezione dei dati nelle istituzioni europee vorrei sottolineare che i benefici della cultura di protezione dei dati istituiti dal regolamento europeo vanno di pari passo con il regolamento generale quando le istituzioni danno il buon esempio questo ovviamente si riflette sulla buona immagine dell'unione europea in generale passo al secondo blocco della mia presentazione cioè le informazioni di bilancio principali per quanto riguarda l'esercizio 2020 noi abbiamo dato pieno seguito alle raccomandazioni presentate nella risoluzione di discarico per il 2019 per l'ulticesimo anno costitutivo consecutivo la Corte dei Conti nella sua relazione non ha osservato alcuna significativa debolezza nella nostra contabilità ringrazio François Cassala membro della Corte dei Conti incaricato della nostra piccola istituzione e Beltran Albuic e i suoi collaboratori per le raccomandazioni esperte che nel corso degli anni hanno contribuito al nostro miglioramento in termini di gestione e di accountability nel 2020 abbiamo ricevuto un bilancio di quasi 20 milioni 19 milioni e 500 mila circa cioè più 17% rispetto al bilancio precedente l'aumento del bilancio è attribuito sostanzialmente all'impatto del regolamento europeo e ai nuovi ai nuovi compiti della nostra istituzione e il terzo pilastro che è attribuito a EPPO Europol e Eurojust gli altri due elementi che hanno impattato il bilancio è la creazione del segretariato del board e gli obblighi che risultavano dal precedente mandato i risultati dell'esecuzione di bilancio sono 73% questo tasso è sostanzialmente inferiore rispetto all'esercizio precedente a causa ovviamente dell'impatto della covid sulle nostre attività per quanto riguarda le DPS raggiungiamo un 80 un 70% rispettivamente questo ovviamente anche a causa delle riduzioni imposte dalla pandemia per quanto riguarda le attività di missione e di formazione per quanto riguarda il titolo secondo c'è stato un ritardo per quanto riguarda l'estensione dell'edificio che occupiamo e che condividiamo col mediatore a causa di una serie di ritardi avremmo dovuto insediarci entro la fine dell'anno scorso ma purtroppo soltanto adesso siamo riusciti a insediarci avere la piena disponibilità dell'immobile per quanto riguarda il titolo terzo il board la sottoesecuzione è dovuta al fatto che i delegati non hanno potuto partecipare in presenza alle riunioni ecco perché il bilancio non ha potuto essere eseguito per quanto riguarda la crisi pandemica la situazione che ci riguarda tutti il garante europeo della protezione dei dati è pienamente consapevole delle difficoltà che incomono a tutte le istituzioni per quanto riguarda le tecnologie che hanno dovuto essere utilizzate in modo più estensivo a causa del telelavoro noi lavoriamo con la rete dei garanti della protezione dei dati delle istituzioni e degli organi per dare assistenza per quanto riguarda le nuove problematiche ci rendiamo conto della necessità di misure eccezionali per combattere la crisi pandemica però bisogna effettuare delle valutazioni di impatto adeguate per minimizzare i rischi tenendo presente che queste misure sono di carattere transitorio e dovranno essere revocate non appena la crisi pandemica speriamo presto sarà conclusa grazie rimango a vostra disposizione per le domande grazie a lei a questo punto come avevo anticipato all'inizio intervengo io in qualità di relatrice sul discarico per le altre istituzioni in questo mia veste vorrei ricordare che la procedura di discarico si basa su principi chiari che si combinano con l'autonomia amministrativa e di cooperazione leale tra le istituzioni europee su questa base noi abbiamo realizziamo le procedure di discarico distinte per ogni istituzione queste procedure di discarico a loro volta sono la base per adottare decisioni circostanziate per ciascuna istituzione questo come ho già indicato nella presentazione della relazione annuale della Corte dei Conti al rispondere alle attese dei cittadini e cioè la piena trasparenza e accountability quindi desidero ringraziare i segretari generali ai direttori e i vostri collaboratori che hanno risposto ai questionari che hanno accettato di incontrarmi personalmente qualche giorno fa e hanno accettato altresì di partecipare a questa audizione purtroppo una volta di più lamentiamo il convitato di Pietra cioè il consiglio ancora una volta assente anche quest'anno un anno così particolare neanche questa situazione ha convinto il consiglio a partecipare con il Parlamento alla procedura di discarito il consiglio ha continuato a non presentare i documenti a non rispondere al questionario e non ha accettato di incontrarmi in qualità di relatrice quindi non posso che spiegare che il dialogo interistituzionale si possa scongelare quanto prima e che noi negoziatori negoziatori possiamo trovare una soluzione a questa situazione contenziosa per tornare a bomba quest'anno come tutti hanno detto è stato un anno molto particolare a causa della crisi pandemica e tuttavia possiamo comunque fare dei raffronti nella gestione delle risorse umane e finanziarie da parte delle istituzioni la sfida era triplice innanzitutto espletare il mandato in una situazione emergenziale a fronte delle misure di emergenza attuate da tutti gli stati membri in secondo luogo la resilienza di ciascuna istituzione di ciascun organo è stato messo a dura prova a causa della forzata digitalizzazione delle procedure interne del metodo di lavoro e da ultimo ma non meno importante tutto questo sotto anche l'obbligo di tutelare la salute dei collaboratori e dei funzionari certo questa situazione è stata difficile però i dettagli di eventuali lacune e criticità saranno esposti nella relazione ma desidero davvero congratularmi con tutti voi per quanto avete fatto i comitati consultivi hanno adottato la procedura di consultazione obbligatoria da parte della commissione per continuare a dare voce alla società europea in un momento cruciale per l'Europa la Corte dei Conti ha continuato a svolgere il proprio compito i conti annuali le relazioni speciali e tutta una serie di relazioni specifiche che sono state pubblicate proprio a causa della crisi pandemica la Corte di Giustizia è riuscita ad adeguarsi per non interrompere la giustizia ha dato seguito a udienze in remoto i principi di buona trasparenza e accountability sono stati rispettati anche da parte del garante della protezione dei dati che ha svolto un lavoro straordinario a ciò che l'Unione Europea potesse far fronte a questa pandemia globale senza sacrificare però la privacy dei cittadini dalla lettura delle relazioni di attività dalle risposte scritte e dalle riunioni che abbiamo tenuto con ciascuna istituzione posso trarre alcune conclusioni che sono comuni a tutte le istituzioni e che pertanto saranno recepite nella relazione primo in termini generali siamo soddisfatti della resilienza di cui hanno dato prova le istituzioni europee la continuità ha garantito di svolgere il proprio mandato in modo del tutto analogo alla fase prepandemica la commissione controllo di bilancio svolgerà un'analisi approfondita in futuro di tutti gli elementi però per il momento non ci pare che ci siano stati cortocircuiti istituzionali le procedure interne di amministrazione sono state digitalizzate e ci sono vari esempi di gestione che erano cartacei che sono stati pienamente digitalizzati nel corso del 2020 rimborso dei viaggi rimborso fatture appalti eccetera eccetera è chiaro che la digitalizzazione interna era un obiettivo comune ma la pandemia è stata ovviamente un catalizzatore di questi processi e questo si ha continuerà anche nella fase di normalità il telelavoro diventerà una realtà permanente è chiaro che può avere un impatto positivo in termini di produttività l'obbligatorietà del telelavoro è stata una prova del fuoco e tutte le istituzioni si sono dette soddisfatte di questa esperienza e hanno manifestato la volontà di mantenere una qualche formula di telelavoro in futuro possiamo concludere però che la reciproca fiducia tra i quadri e i funzionari è cruciale per produrre i risultati e garantire l'impegno da parte di tutti coloro che lavorano nelle istituzioni quindi in futuro dovremo garantire il migliore il meglio di entrambe le dimensioni ci deve essere sempre l'accordo del personale la tutela della salute del personale è più importante che mai come dicevo la digitalizzazione del lavoro è un dato di fatto però non comporta soltanto dei vantaggi ma anche dei rischi il maggior rischio secondo me è la pressione che si può trasferire in termini di aumento di disponibilità e di produttività che si egige dal personale e non possiamo dimenticare il diritto alla disconnessione che noi sempre ricordiamo e il rischio nel conciliare la vita privata e la vita professionale questo è un rischio che esisteva anche prima della pandemia però la crisi pandemica ha rappresentato sicuramente un rischio maggiore gli strumenti digitali si devono adeguare a chi lavora non possiamo esigere dai lavoratori che siano collegati 24 ore su 24 ultima osservazione trasversale a tutte le istituzioni il risparmio ricavato dalla crisi pandemica si sono ridotte le spese di tutte le istituzioni per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi delle riunioni il rimborso delle spese di viaggio però è stato necessario investire di più nella digitalizzazione come è stato detto fornendo tutti gli strumenti informatici ai collaboratori le istituzioni hanno colto però l'occasione per ridurre dei costi finanziari quali ad esempio le voci immobiliari le voci per le spese immobiliari quindi si auspica che questi risparmi siano utilizzati in modo positivo nel progetto di parere che sto preparando ovviamente la crisi pandemica la farà da padrone ma ovviamente mi occuperò anche di altre problematiche di altre questioni con il sostegno e la collaborazione dei relatori ombra e avrete visto che i nostri questionari erano molto articolati ci sono una serie di aspetti fondamentali nel controllo di bilancio che riguardano le risorse umane le questioni etiche la prevenzione del mobbing la parità di genere grazie alle riunioni bilaterali ho poche domande da farvi singolarmente per istituzione quindi preferisco lasciare più spazio ai miei colleghi relatori ombre al segretario generale Brunetti vorrei chiedere come si è svolta la gestione delle diarie di viaggio e i per diem dei membri durante la pandemia dei consiglieri durante la pandemia sono state risolti le questioni relative alle vittime del mobbing oggetto di osservazione delle precedenti procedure di discarico è stato nominato un mediatore interno come si garantisce l'indipendenza e l'obiettività essendo un posto interno meglio sarebbe stato che fosse esterno e che valore aggiunto rappresenta rispetto ai consiglieri responsabili per l'etica che esistevano e per quanto riguarda la risposta 24 si dice che c'è un'indagine amministrativa in corso su una richiesta di assistenza vorrei sapere a che punto è questa indagine questa richiesta di assistenza quando è arrivata e quando è stata data risposta e se ci sono misure di protezione per il ricorrente Viskopsky il caso McCoy lei ci ha detto che sono stati fatti dei passi avanti ma è un fatto chiuso è un capitolo chiuso ci regolerebbe saperlo poi per quanto riguarda il caso di mobbing che riguarda entrambi i comitati c'è un'indagine amministrativa interna sono state adottate delle decisioni a riguardo e nel discarico 2019 si parlava della presenza di amianto nell'edificio il personale informato sono stati fatti i lavori di ristratturazione metodi di lavoro durante la pandemia questi metodi di lavoro adottati durante la pandemia diventeranno permanenti e i 27 casi di burnout nel 2020 immagino collegati alla crisi pandemica al di là dell'assistenza individuale ci sono modifiche interne in via di preparazione per migliorare il carico di lavoro e la distribuzione del carico di lavoro per la signora Daniello ci può spiegare lei lo ha citato alla fine del suo intervento ci può spiegare quali sono state le misure principali in termini di riorganizzazione interna cioè come stanno impantando queste sul funzionamento interno e dopo l'esperienza della crisi pandemica quale sarà la futura gestione dei reclami da parte del mediatore per quanto riguarda le indagini in presenza e online Colias qual è secondo lei il futuro degli audit per quanto riguarda appunto le prospettive futuro in presenza o in remoto nel 2020 ci sarebbero stati due casi di mobbing non confermati dalle indagini amministrative le chiedo se sono state assunte adottate misura interna per cercare di risolvere questi conflitti poi quali sono i problemi della corte per quanto riguarda la ricerca di candidati per lussemburgo visto il profilo altamente specializzato che è richiesto da questa istituzione Ferbera nel questionario si dice che l'impatto della pandemia lascerà un'onda lunga nel 2021 e si dice che ci sono difficoltà per riutilizzare i risparmi conseguiti nel 2020 ci può spiegare nel dettaglio quali sono le difficoltà per quanto riguarda la gestione interna tramite questi appalti congiunti la sua istituzione poi ha visto crescere in modo esponenziale le proprie competenze il proprio mandato in che misura si fa ricorso ad agenti contrattuali e poi la collaborazione con l'EPSO per riscontrare i candidati per trovare i candidati altamente specializzati come funziona e con questo iniziamo di nuovo il giro nell'ordine precedente perché così è più facile la gestione ciascuno avrà due o tre minuti per rispondere concretamente alle domande Valerio Placco prego grazie madame la presidente grazie presidente dunque per quanto riguarda la prima domanda le misure per la digitalizzazione dell'amministrazione e un cambiamento del metodo di lavoro fatti questi che rimarranno in futuro beh anzitutto un primo aspetto la durata del telelavoro infatti la corte ha adottato tra solo il comitato amministrativo lo scorso giugno una nuova decisione sul telelavoro che sarà una modalità normale di lavoro quindi ci sarà un maggior ricorso al telelavoro in futuro rispetto al passato anche se l'esperienza di questa crisi ci ha mostrato che il lavoro a distanza ha dei limiti dovremmo trovare il giusto equilibrio e questa decisione appena adottata consente una certa flessibilità infatti ogni servizio avrà uno spazio di manovra per adattarsi al telelavoro secondo le esigenze di funzionamento interno ho parlato di alcune misure durante la mia presentazione come l'adozione di un sistema di gestione amministrativa dei documenti come la firma elettronica ma anche il sistema di invio a distanza delle domande naturalmente una volta terminata la pandemia le audizioni in teleconferenza saranno una eccezione ma l'ammodernamento rimarrà e ne trarremo il massimo profitto in termini di efficienza per avere delle economie più in generale penso anche a risparmi sulla carta poi la seconda domanda che mi ha posto sul burnout è vero abbiamo registrato più casi e questi si possono spiegare perché più colleghi hanno avuto sintomi di burnout e naturalmente ciò è legato alla crisi come lei diceva e per quanto riguarda i cambiamenti interni realizzati per cercare di prevenire i casi di burnout già durante la crisi la corte ha fatto una riflessione ha adottato delle misure affinché i servizi più coinvolti nella crisi possano intervenire con con un ridispiegamento provvisorio del personale da mettere a disposizione a favore di quei servizi invece più colpiti penso alla gestione delle udienze quindi abbiamo dotato queste misure a livello interno per far sì che il lavoro venisse distribuito in modo equo abbiamo anche realizzato delle formazioni ai manager per sensibilizzarli e prevenire i casi di burnout per abituarli alla gestione di equip a distanza considerando le sfide che ci oppone e al personale abbiamo offerto delle formazioni che miravano proprio alla prevenzione di burnout e dei conflitti abbiamo adottato varie misure in tal senso e ancora oggi lo stiamo facendo e assieme al comitato del personale stiamo valutando quelle misure che possono essere prese ulteriormente per facilitare l'integrazione del personale in burnout con delle procedure più precise che consentano il miglior reinserimento di questi colleghi grazie prego Zacharias Goliars grazie per avermi atteso allora le nostre riunioni le nostre audizioni del comitato amministrativo ora si svolgono in presenza e anche la maggior parte delle riunioni della Camera speriamo dunque che il covid ci faciliti in questo senso nelle nostre risposte abbiamo parlato di alcuni casi del 2020 quest'anno si sono conclusi questi casi 2021 cioè in altre parole le questioni delle molestie sono state risolte queste persone sono state spostate in altri servizi ma non in modo punitivo e abbiamo aperto delle procedure come segretario generale le indagini indipendenti durano troppo tempo sia per le presunte vittime sia per i presunti autori delle modestie questa non figura nelle conclusioni di quest'anno ma come dicevo tutto è andato per il meglio a parte la questione del tempo e poi parliamo delle difficoltà nel reclutamento del personale ve ne potrei parlare per mezz'ora e più ma semplicemente mi limito a dire che è un grosso problema per noi dobbiamo attrarre i talenti tra gli auditori tra i revisori e questo non è facile c'è una forte concorrenza di Bruxelles noi abbiamo dei posti per la corte dei conti vengono da noi dei laureati che poi ci lasciano per andare a Bruxelles e naturalmente vogliamo anche mantenere l'equilibrio geografico e l'equilibrio di genere che diventa un problema che facciamo allora a breve termine cerchiamo di far sì che i prossimi concorsi siano più su misura per noi e nel frattempo avremo delle posizioni temporanee sia per gli auditor finanziari sia gli auditor con competenze specifiche speriamo di trovare soluzioni più a lungo termine perché la situazione a quanto pare non sta migliorando e secondo le stime potrebbe anzi peggiorare nei prossimi anni grazie grazie a lei prego Gianluca Brunetti grazie presidente bene cominciamo dalle vittime dei casi di molestie segnalate la vostra attenzione l'anno scorso ecco c'erano due vittime di molestie e due vittime di condotta inappropriata sì dal marzo 2020 ci sono stati due accordi amichevoli raggiunti con le due vittime di molestie e una delle vittime di condotta impropria ha presentato delle richieste che ora sono analizzate dai colleghi delle risorse umane assieme alle vittime ma queste richieste sono giunte in modo tardivo ecco perché ancora su quel caso non c'è mai decisione e poi per la seconda vittima di condotta impropria non è un membro del personale ma un ex membro del comitato e non ha ancora specificato le richieste ma veniamo alla domanda specifica su maggiori informazioni per delle indagini in corso l'indagine terminerà nelle prossime settimane però questo non è legato ai casi di molestire non ci sono misure di protezione perché questa persona non lavora per il comitato non lavora più per il comitato ma se è andata alcuni mesi fa prima di presentare la domanda ai sensi dell'articolo 24 poi parliamo del nostro ombudsman o mediatore interno difensore pubblico è una funzione che è comune in tante organizzazioni pubbliche internazionali e nazionali è uno strumento molto importante questo per noi per aiutare nella mediazione di possibili casi di disputa tra l'amministrazione e un membro del personale e questo potrebbe riguardare qualunque tipo di azione amministrativa contro cui può intervenire un membro del personale certo la funzione deve essere indipendente questo è specificato fra i compiti del nostro mediatore interno ma questa funzione comunque non impedisce a un nostro dipendente di procedere con le vie legali ad esempio può sempre fare l'essenza di una decisione su questo blower ma naturalmente può anche presentare una richiesta a essenzia dell'articolo 19 1 e 2 quindi il nostro mediatore interno è un ulteriore strumento che si è già dimostrato importante ed ora passo all'altra domanda sulle spese di viaggio per i membri secondo la decisione del consiglio del 2013 i membri del comitato quando viaggiano hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ma se non viaggiano non ottengono alcun rimborso tuttavia hanno sempre diritto a 290 euro per ogni giorno di partecipazione a una delle riunioni e allora che cosa abbiamo fatto abbiamo preso iniziativa rispetto al consiglio e abbiamo avanzato la nostra proposta per ridurre questo per diem per la partecipazione online la decisione risale alla fine dell'anno scorso e poi con l'aiuto della presidenza siamo arrivati a un risultato finale il consiglio ha deciso di avere una per diem separata di 155 euro per i membri che partecipino online alle riunioni ed è già in vigore dal primo luglio di quest'anno questa nuova per diem siamo orgogliosi di questo risultato non ci sono molte istituzioni che abbiano fatto una cosa del genere chiedendo alla loro autorità di riferimento di ridurre il per diem quindi questa è la situazione per chi è presente fisicamente alla riunione il per diem è di 2,90 più il rimborso delle spese di viaggio mentre invece per chi partecipi in remoto c'è un per diem fisso di 155 euro a titolo provvisorio terminerà probabilmente quando sarà terminata la pandemia ma non spetta a me decidere quando ciò avverrà bene ed ora a facoltà Bliskowski presidente lei mi chiedeva in merito al caso McCoy whistleblower la risposta è che il caso non è chiuso questo perché anche se abbiamo firmato al comitato delle regioni e abbiamo compiuto tutti i passi necessari cioè il comitato che si occupa di questioni di bilancio ha deciso e ha stabilito che la fine del mandato del signor McCoy quindi il nostro ufficio è stato d'accordo abbiamo chiesto il trasferimento esterno di fatto che la commissione bilanci il Parlamento europeo deciderà su questo domani quindi io spero che la decisione sia favorevole da parte del Parlamento di modo che possiamo poi pagare quanto avevamo permesso signor McCoy era stata anche posta una domanda per sapere quali fossero le procedure interne in seguito alla partenza del signor McCoy no la risposta è negativa prima perché la procedura non è conclusa in secondo luogo perché questo è un fatto che risale a vent'anni fa e ai tempi non esisteva una base giuridica per gli informatori e giuridicamente quindi non vi sono giustificazioni motivi per avvalare questo caso quindi si tratta di un accordo di buona volontà una soluzione all'amichevole lei per anche posto una seconda domanda sugli ultimi casi recenti di molestia vi è stato un caso nei servizi comuni con la DBSC con il Comitato Comunico Sociale chiedo scusa siamo stati informati del caso e insieme al collega Gianluca Brunetti abbiamo chiesto all'Olaf di esaminare la questione cosa che l'Olaf ha fatto e non ha trovato motivi per un'ulteriore indagine in questa situazione quindi abbiamo congiuntamente effettuato la nostra procedura interna e dopo l'estate si è conclusa e non stiamo quindi attuando il piano di ripresa del Dipartimento in questione poi avrei una terza osservazione che vorrei fare il 26 aprile quest'anno abbiamo adottato una decisione sulla dignità personale al lavoro e questo include anche un meccanismo di sensibilizzazione e la protezione per quei membri che o quei membri personali che potrebbero essere vittime di molestie o intimidazioni grazie la signora Daniello prego sì grazie per quel che riguarda la prima domanda da lei posta cioè circa l'inchiesta noi abbiamo attuato e rispettato tutte le misure adeguate previste dai nostri testi interni e siamo stati soprattutto attenti ad esercitare l'obbligo di cura nella massima misura possibile ovviamente noi abbiamo collaborato appieno con gli investigatori siamo a loro piena disposizione abbiamo detto loro che speriamo che si addivenga ad una conclusione più rapidamente possibile per quel che riguarda la sua seconda domanda noi ci stiamo sforzando moltissimo per poter ammodernare i ricorsi ricevuti online soprattutto noi stiamo agevolando le procedure che possano seguire i ricorrenti per presentare un ricorso dobbiamo spiegare loro molto più esaurientemente tutte le fasi di questa procedura con le questioni di merito e di procedura che vertono intorno ai ricorsi anche perché molto di quanto riceviamo in ultima analisi si rivela esulare dal mandato del difensore civico quindi penso che dobbiamo spiegare molto meglio la questione comunque noi stiamo anche investendo soprattutto in sistemi informatici che permettono di agevolare il trattamento di qualsiasi ricorso dalla A alla Z si tratta di una procedura in corso dove stiamo anche rafforzando il personale a questo proposito grazie molte grazie infine il signor Silvera prego sì grazie ho ricevuto due domande una relativa alle difficoltà che incontriamo per spendere i fondi per i prodotti informatici noi siamo convinti che le istituzioni dell'Unione Europea debbano soprattutto fornire esempio e per quel che riguarda la conformità alla protezione dati il l'edps è particolarmente vincolato purtroppo molti fornitori di servizi nel settore dell'informatica sono aziende al di fuori dell'Unione Europea che hanno la sede centrale in paesi che non abbiano una legge sulla protezione dei dati che sia stata considerata dalla Commissione Europea adeguata o equivalente alle nostre norme quindi questo è quello che avviene per esempio negli Stati Uniti e questo rappresenta una duplice sfida perché per noi amministrazioni Unione Europea le disposizioni contrattuali che sottoponiamo alla firma non sempre rispettano appena il GDPR anche perché in molti casi i dati personali vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e quindi si tratta di una questione molto delicata se si tiene conto del fatto che si tratta di dati amministrativi dati delle istituzioni UE che dovrebbero essere protette oggetto di privilegio e immunità la situazione era già difficile prima della pandemia ora però durante la pandemia si è passati verso una maggiore digitalizzazione e verso più riunioni virtuali cosa che ha reso la situazione ancora più difficile dal punto di vista della protezione dei dati noi compiamo tutti gli sforzi possibili per trovare delle soluzioni pragmatiche dobbiamo però essere ancora in grado di dimostrare di conformarci alle nostre leggi e alla nostra giurisprudenza per citare un esempio soltanto questo mese indierò una lettera a tutti i direttori dell'amministrazione di tutte le istituzioni europee affinché uniscano le forze per negoziare tutti insieme insieme al prestatore di servizi che usiamo soprattutto noi per organizzare le videochiamate si tratta di un prestatore di servizi che proviene da un altro stato che è al di fuori dell'Unione Europea e quindi questa è una sfida questo è soltanto un esempio del tipo di difficoltà che sperimentiamo ma riteniamo che se lavoriamo insieme probabilmente potremmo essere più forti quanto alla questione circa il numero di agenti a contratto e la nostra politica di assunzioni la spiegazione è che l'EDPS costituisce una delle ultime istituzioni europee che vengono a far parte della famiglia delle istituzioni UE noi siamo arrivati in un momento di crescita proprio quando vieno le politiche di austerità in fase di attuazione per cui per noi è stato veramente molto difficile perché abbiamo visto che ci venivano conferite più responsabilità mentre al contempo le autorità di bilancio ci stavano dicendo che dovevamo congelare i nostri bilanci per cui l'unico modo che ci ha consentito di sopravvivere all'epoca è stato quello di ricorrere ad agenti a contratto per compensare la mancanza di posti nel piano quello che facciamo ora per ovviare la situazione è che poco per volta noi chiediamo ci vengono chieste posti supplementari sia delle autorità di bilancio nel piano di stabilimento stiamo anche organizzando dei concorsi EPSO regolarmente perché è anche molto difficile trovare degli esperti in materia di protezione dei dati che siano funzionari quindi per esempio in corso un concorso EPSO su specialisti di protezione dei dati e pensiamo di poter avere colleghi che speriamo nei prossimi anni potremmo assumere come funzionari e non come agenti a contratto spero così di aver risposto alla sua domanda Presidente grazie sì grazie mille allora passiamo direttamente adesso ai relatori Ombra per il gruppo PPA prego cinque minuti all'onorevole lei grazie Presidente e grazie a tutti i segretari generali per i contributi odierni anche per le risposte scritte che hanno fornito alle nostre domande quindi grazie alla Corte dei Conti anche per il suo contributo che è estremamente utile rappresenta una validissima base per il nostro lavoro e volevo anche dire al segretario generale questo noi capiamo la sua frustrazione Presidente sul comportamento del Consiglio e noi ribadiamo questa nostra preoccupazione lei ha parlato di assenza del Consiglio mi stavo guardando intorno e il signore che casualmente è seduto dietro di me è di una delegazione del Consiglio oggi questo è molto strano perché da un lato dicono che non sia importante partecipare però è sufficientemente importante inviare un rappresentante alla nostra riunione quindi penso che dovremmo dire al Consiglio che è più che benvenuto a venire qui e partecipare alle nostre domande a contribuire però se non fate nulla di tutto ciò potreste tranquillamente anche non venire e vi invieremo tranquillamente un link allo streaming di questa riunione che sarà altrettanto utile quindi forse nell'ultima tornata di interventi potremo ancora dare la parola al rappresentante del Consiglio per vedere se abbia bisogno di aggiungere qualcosa perché penso che si tratti di una mancanza di rispetto sistematico nei confronti del Parlamento europeo del nostro lavoro e delle procedure di discarico e quindi semplicemente non si dovrebbe far passare questo senza reagire ora sulle osservazioni più pratiche alcune domande relative alle ottime domande che lei ha già posto Presidente al Comitato Economico e Sociale sì certo noi ci siamo espressi piuttosto criticamente nella relazione dello scorso anno però penso anche che le critiche rispecchiassero veramente la gravità dei casi che dovevamo esaminare e questi casi non sono stati veramente conclusi in modo del tutto soddisfacente dato il fatto che il numero della persona in questione è ritornata in carica anche se non ha riconosciuto alcun comportamento errato e neanche si è scusato quindi come fare in futuro ci sono delle risposte e giustamente è stato detto che il Comitato non può intervenire sull'importanza dei membri noi vorremmo cambiare le regole quindi questo riporterebbe la palla nel nostro campo e anche ci rendiamo conto che un cambiamento del trattato su questo punto non si farà dall'oggi al domani e mi chiedo se questa veramente non sia l'unica risposta che abbia il Comitato Economico e Sociale o se invece non abbia un ruolo anche se non vi sia una richiesta formale di consultazione un ruolo che possa svolgere il Comitato per far sì che questa procedura importante sia trasparente e che possa fornire un parere di modo che si possa essere certi che Commissione e Consiglio quando svolgeranno un ruolo formale sulla nomina avranno tutte le informazioni di cui hanno bisogno un secondo punto lei ha risposto che il nuovo codice deontologico stabilisce che l'ufficio può proporre all'Assemblea che un membro possa essere espulso dal Comitato e il processo di revisione del regolamento prevede a questo punto l'introduzione di una disposizione specifica in materia per rafforzare ulteriormente il testo del codice deontologico potrebbe però fondere un po' di più questa disposizione specifica cosa significa esattamente e come rafforzerà la forza del codice deontologico una domanda fattuale se un membro è condannato dinanzi a un tribunale nazionale questo sarebbe sufficiente perché l'ufficio di presidenza proponesse una tale misura eccezionale poi abbiamo posto alcune domande sulle richieste in casi di molestia è stato detto che la richiesta è giunta tardivamente però vediamo che è stato presentato un ricorso nel dicembre 2020 e nell'aprile 2021 sono state richieste e ulteriori informazioni quindi sono già sette mesi fa a che punto siamo adesso e perché ci è voluto così tanto tempo e ci vuole così tanto in secondo luogo al Comitato delle Regioni nella risposta scritta al Parlamento nella domanda 5 si dice che il Comitato ha iniziato ad attuare delle raccomandazioni relative al fatto di trovare sinergie di processi a esplorare modalità possibili per accrescere lo scopo e l'utilità del Comitato delle Regioni potrebbe approfondire maggiormente quali sono queste raccomandazioni quali sono già attuate e ha presentato anche una panoramica molto utile sugli appalti che sono stati proposti e viene uno che vale 6 milioni di euro su un contratto quadro per l'organizzazione e la gestione di eventi per il Comitato Europeo delle Regioni allora io vorrei sapere se potesse fornirci un po' più di precisazioni su questo bando di gara particolare per quali servizi e di quale periodo stiamo parlando infine mi scuso se sto correndo ma abbiamo solo 5 minuti sul difensore civico a volte sono un po' confuso non so dove il difensore civico vede una linea tra presunta cattiva amministrazione che rientra chiaramente nel suo mandato e l'esercizio del ruolo politico delle istituzioni è una linea che sembra ogni anno essere un po' più sfasata e confusa l'anno scorso avevamo già chiesto quali fossero le domande circa le indagini nell'azione della Commissione Europea sulla valutazione di sostenibilità per i progetti del gas sull'elenco dei progetti di interesse comune l'abbiamo avuto nel 2020 questa domanda la pongo di nuovo come vedete questo caso particolare come vedete se sia un caso potenziale di cattiva amministrazione non invece un caso che riguardi l'esecuzione del ruolo politico della Commissione Europea grazie mille grazie per il grazie Renew prego grazie grazie a i rappresentanti delle altre istituzioni e al dottor Obiola per quanto riguarda la Corte di Giustizia avrei qualche commento a nome del relatore Ramona Strugario in termini generali la Corte è una delle istituzioni che ha i risultati migliori dal punto di vista finanziario e amministrativo la collega vorrebbe in modo particolare concentrarsi sull'evoluzione del mole di lavoro l'impatto sul personale per quanto della crisi pandemica la Commissione dovrebbe lavorare di concerto con la Corte per garantire un adeguato livello delle risorse finanziarie e soprattutto umane per contrastare i rischi di burnout e garantire l'efficienza dell'istituzione per quanto riguarda il collega Shastel che purtroppo non può essere qui oggi la questione delle indennità giornaliere è già stata data una risposta per quanto riguarda il Cese è stato detto che è stato istituito un board a quali sono le future misure Comitato delle Regioni grazie al segretario generale con cui mi congratulo per l'accordo raggiunto nel caso McCoy la collega Inetfeld è stata la mediatrice di questo accordo per quanto riguarda il discarico 2020 la mia domanda è la seguente qual è la strategia attuale in materia di whistleblower e quali sono le conclusioni che traete da questo caso poi c'è una sperequazione in termini di parità di genere per quanto riguarda le posizioni apicali a livello di management e i quadri intermedi cosa si è fatto per migliorare l'equilibrio geografico e di genere soprattutto per i quadri medi e i posti senior poi sempre per quanto riguarda il collega Shastella dottoressa Daniello vorrei sapere quale metodologia avete adottato per i nuovi KPIs quali sono questi nuovi indicatori chiave e quali sono le elezioni che traete dalla crisi pandemica rispetto alle vostre modalità operative per quanto riguarda le risorse umane quali sono per quanto riguarda il personale attualmente le vostre priorità è stato detto che non ci sono risorse sufficienti da destinare alla sostenibilità pensate di avviare una collaborazione con altre istituzioni a tale riguardo per quanto riguarda il GEPS in materia di trasparenza perché il garante non utilizza il registro della trasparenza e per quanto riguarda il GDPR può approfondire un po' quali sono i risultati raggiunti nel 2020 nelle relazioni tra il GEPS e le autorità nazionali per la protezione dei dati in termini di collaborazione e supervisione e da ultimo il Parlamento aveva chiesto al GEPS nella scorsa procedura di scarico di procedere per quanto riguarda una valutazione dell'attuazione del GDPR a che punto siamo? Grazie per i verdi Daniel Freund Grazie Condivido le preoccupazioni espresse dal collega Lenars per la non collaborazione da parte del Consiglio in materia di discarico il Parlamento è più che disponibile e sarebbe più che disponibile a fornire al Consiglio tutte le informazioni del caso se il Consiglio chiedesse la reciprocità per quanto riguarda l'esame delle informazioni e dei conti però questo muro non consente al Parlamento di svolgere il proprio ruolo in quanto autorità di discarico è inaccettabile avrei un paio di questioni trasversali che riguardano tutti i segretari generali che ringrazio per la loro presenza e la loro disponibilità la prima il software abbiamo digitalizzato in modo massiccio durante la pandemia ma il rappresentante del GEPS ci ha già segnalato quali sono le criticità anche per quanto riguarda la trasmissione di dati a parti terze extra UE quali tipi di software sono coinvolti e quali sono le licenze che sono state acquistate nel corso del 2020 altra domanda trasversale il telelavoro abbiamo visto un effetto positivo in termini di flessibilità abbiamo visto che il personale generalmente è soddisfatto di lavorare da casa questo ha ridotto le assenze le richieste di part time quindi vorrei sapere quali sono le intenzioni e i progetti per quanto riguarda la conservazione di un certo margine di flessibilità adesso che si sta tornando al lavoro in presenza poi per il CESE sempre sulla stessa questione delle diarie io non è che sia tra quelli che sono molto contenti del taglio alle diarie non capisco perché nel senso non capisco perché si debba pagare una diaria per chi si collega in remoto ma a quale titolo in questa indennità se ci sono riunioni in cui si partecipa dall'ufficio o dal salone di casa come fa questo a giustificare l'erogazione di un'indennità mi sfugge totalmente per quanto riguarda le molestie sessuali o le molestie in generale perché non ci sono state richieste di indagini esterne da parte del comitato e adesso che c'è un nuovo codice di condotta quali sono le misure che sono state adottate sulla base del nuovo codice e si sono rivelate più solide per quanto riguarda i casi di whistleblower o di molestie se ci sono stati nuovi casi nel 2020 che siano stati trasmessi all'OLAF nelle risposte scritte sul mediatore interno mi ha un po' sorpreso che non si faccia menzione del del fatto che i rappresentanti del personale e il servizio giuridico abbiano respinto la proposta in quanto non avrebbe le garanzie dell'indipendenza dunque ci può spiegare qual è stata la risposta al servizio giuridico e ai rappresentanti del personale e per quanto riguarda la corte dei conti avrei un'altra domanda è un punto che è stato portato alla mia attenzione l'ex segretario generale licenziato questo potrebbe essere un licenziamento dovuto a un caso di molestie sessuali di cui però non si fa menzione nella procedura di licenziamento quindi c'è un nesso con un caso di molestie sessuali o no e se no la corte intende adottare delle misure per prevenire casi analoghi in futuro e concludo corte di giustizia il codice di condotta per il personale per quanto riguarda le porte girevoli forse nell'introduzione mi è sfuggito perché fra l'altro sono arrivato dopo un'altra riunione e se sì se questo codice ci sarà quando il 72% soltanto dei gli stagiaire sono stati pagati nel 2020 questo risulterebbe perché il 28% non sarebbe stato pagato e che cosa si intende fare in futuro a tale riguardo poi la campagna carta zero le spese per la carta mi sembrano esorbitanti perché non si riesce a tagliarle grazie Pignedoli grazie presidente io avevo alcune domande per il comitato economico e sociale che in parte mi ha anticipato il collega dei Verdi c'è una questione è stato detto che c'è un accordo appunto per l'attuazione del mediatore interno però il 22 ottobre lo staff committee ha sostanzialmente negato ha dato un parere negativo per la scarsa indipendenza di questo comitato quindi alla luce di questo alla luce delle moleste che sono state rilevate nel passato alla luce anche dell'inerzia del trattamento di queste moleste perché abbiamo dovuto aspettare l'intervento di Olaf per trattarle diciamo così alla luce del fatto che ci sono sei nuove richieste di assistenza sempre per questioni di molestie io ritengo che sia assolutamente imprescindibile un'indagine esterna perché questa indagine non viene presa in considerazione e perché c'è un'opposizione a questa indagine ne va della credibilità dell'istituzione ne va della credibilità dell'operato delle persone che ci lavorano e anche delle risorse europee perché dobbiamo anche sottolineare il fatto che sono già state spese risorse europee c'è stato un danno economico e ancora alcune vittime attendono un riconoscimento e proprio su questo punto dal momento che ci sono ancora alcuni dossier sulle vittime che sono ancora aperte le vittime non sono state risarcite non sarà il caso anche di applicare un membro della commissione CONT proprio per gestire questi dossier grazie grazie bene diamo rapidamente una risposta a tutte queste domande quindi continuiamo con lo stesso ordine di prima e cominciamo anzitutto Valerio Placco cerchiamo di essere specifici nelle risposte in tre minuti prego grazie presidente bene per quanto riguarda le domande poste dai verdi anzitutto la prima domanda per tutte le istituzioni e cioè che ne è del trasferimento di dati personali all'esterno dell'Unione Europea e in particolare l'utilizzo di software che potrebbero essere all'origine di tale problematica allora il trasferimento dei dati verso l'esterno dell'Unione Europea è chiaramente al cuore delle nostre preoccupazioni e collaboriamo con le DPS che ha una stretta collaborazione con le istituzioni durante la pandemia ci sono state varie criticità soprattutto se pensiamo ad alcune applicazioni nel settore della formazione professionale e di videoconferenza ci sono stati lunghi negoziati con gli appaltatori i fornitori di questi servizi e abbiamo avuto l'assistenza delle DPS proprio per riuscire a superare tali problematiche e ci siamo riusciti ma in effetti è vero c'è stata una lunga riflessione e ho negoziato su tale questione e poi la domanda sul futuro del tele lavoro credo di aver già risposto per la Corte di Giustizia mi riferisco la mia risposta alla Presidente sul nuovo metodo di lavoro e ora nello specifico per le questioni relative alla Corte di Giustizia c'era una domanda sul consumo del credito per la carta abbiamo verificato le cifre per il consumo della linea di bilancio della carta 372 372 mila euro ci sono stati dei trasferimenti da quella linea ma il consumo della carta è quanto io indicavo poi le altre domande e cioè la regolamentazione sulle porte girevoli revolving doors e altri aspetti concernenti la deontologia dei funzionari questi lavori sono in corso sono stati in effetti rallentati perché c'erano altre priorità per la crisi sanitaria ma contiamo di presentare un progetto di decisione al comitato amministrativo nei prossimi mesi e probabilmente ne riparleremo agli inizi dell'anno prossimo e poi l'ultima domanda gli stagisti non remunerati nel 2020 in effetti la percentuale di stag remunerati è del 72% un importante progresso rispetto all'anno precedente c'è una percentuale di stagisti non remunerati questo è previsto nella decisione della corte ci sono questi stag che vengono realizzati e che in parte possono non essere ancora retribuiti ma stiamo rivedendo la regolamentazione con l'intento di avere un sistema che consenta di retribuire tutti gli stagisti come ho spiegato dalla vostra commissione controllo dei bilanci grazie prego colias grazie dunque devo rispondere a tre domande di cui una specifica per lei allora per quanto riguarda la digitalizzazione la protezione dei dati secondo me dobbiamo ancora essere tolleranti per noi come istituzione è fondamentale usare questi strumenti ma se dovessimo applicare il GDPR non saremmo in grado di comunicare tra noi di effettuare le audit ma siamo molto cauti attenti a quel che noi condividiamo con i teams quindi non usiamo i teams per condividere documenti usiamo altre applicazioni codificate e per il telelavoro questa settimana la corte deciderà sarà una decisione ibrida così la chiamiamo entrerà in vigore dal primo gennaio già c'è stata una prima discussione da parte del comitato amministrativo e sarà una via di mezzo tra la situazione pre-covid e gli aspetti positivi durante il covid quindi vogliamo arrivare a 220 giorni di telelavoro con la consultazione con il personale abbiamo visto che c'è un'accoglienza positiva e poi la domanda specifica sull'ex segretario generale vi posso assicurare non ha avuto nulla a che fare con moleste sessuali sono anni che lavoro presso l'ECA non abbiamo mai avuto casi di moleste sessuali quindi il suo allontanamento non riguarda le moleste sessuali non ci sono relazioni formali informali in tal senso ma era nell'undicesimo anno del suo mandato di segretario generale quindi per la corte nel 2020 11esimo anno era il caso di iniziare una nuova strategia per avere un nuovo segretario generale sono io il sottoscritto nel caso preciso quindi avere un segretario generale che poteva vedere la realizzazione finale della nuova strategia e questa è la parte che mi riguarda questa è l'idea dunque dietro l'allontanamento di Edoardo grazie prego Brunetti grazie presidente anzitutto ritorno sulla questione del mediatore interno il comitato del personale del CESE ha dato un parere favorevole a giugno e un parere diverso a ottobre l'auspicio è questo che ci sia una funzione indipendente questo è un auspicio legittimo che l'amministrazione condivide quindi siamo sulla stessa lunghezza ad onda e per quanto riguarda il senso giudico ha inchiesto dato un suo parere favorevole con alcune osservazioni che abbiamo preso in considerazione nel progetto di decisione che sarà adottato a breve e poi per quanto riguarda le vittime non è esatto dire che l'amministrazione non abbia fatto nulla ci sono state delle indagini che sono state avviate già a novembre 2018 e poi interrotte quando l'Olaf ci ha notificato la sua indagine quindi a quel punto noi abbiamo sospeso i nostri lavori di indagine per lasciare il campo libero all'Olaf e parliamo di vittime è stata posta la domanda quindi entro nei dettagli della vittima il cui accordo ancora non è stato firmato è vero la richiesta è arrivata a gennaio di quest'anno con una proposta dall'amministrazione già ad agosto naturalmente dopo aver esaminato il caso e aver consultato le varie istanze in senso del comitato ma poi per dei motivi legati a problemi di salute il dialogo i contatti non sono andati avanti ma riprenderanno a breve ma non siamo noi responsabili di questo ritardo e poi la posizione del comitato rispetto a tale caso dopo la decisione del 2 giugno 2020 il comitato dato istruzione al segretario generale di essere da parte civile in un'eventuale causa relativamente al membro in questione di fronte alla giustizia belga siamo ancora in una fase distruttoria al momento e così posso fare il legame con la nomina dei membri capisco benissimo non siete soddisfatti dalle nostre risposte ma vorrei ricordare qual è il contesto per noi la decisione per nominare i membri al comitato spetta al consiglio che agisce su proposta della commissione quindi la commissione fa una sua analisi verifica i membri noi come comitato non siamo neanche destinatari di quella proposta è un documento riservato che viene solo trasmesso al consiglio purtroppo forse a livello amministrativo non è l'ideale ma in un certo senso dimostra qual è la posizione di subordinazione che abbiamo quindi che faremo ci sono negoziati in corso con la commissione per avere un nuovo accordo di collaborazione ecco noi vorremmo sollevare anche tale questione così almeno nella fase di verifica e autorizzazione saremo informati della posizione della commissione per avere voce in capitolo perché è vero non possiamo aspettarci a breve un cambiamento è una situazione infelice lo devo ammettere ma noi siamo parzialmente vittime della situazione e poi la per diem per la partecipazione in remoto la decisione del 2015 la nuova decisione del consiglio che è entrata in vigore a luglio scorso riconoscono il fatto che questa per diem è collegata al lavoro e al tempo destinato al comitato quindi il consiglio ce lo dice sì la persona è destinataria di questa per diem perché partecipa alle attività del comitato senza fare una distinzione quindi questa per diem deve compensare il tempo dedicato e vi ricordo che i membri del comitato non ricevono una retribuzione a parte del comitato perché dipendono dalla rispettiva organizzazione non so se ho risposto così alla sua domanda ma questa è la motivazione della decisione del consiglio e così credo di aver risposto a tutte le domande ah certo il nuovo codice di condotta certo il nuovo codice di condotta è obbligatorio per i membri con nuove competenze per il bureau per chiedere al consiglio di allontanare un membro considerato colpevole di condotta impropria ecco questo sta nel regolamento e le disposizioni stanno già nel codice di condotta ma vi potrò fornire la versione aggiornata del testo ve la invio via email così vi do delle informazioni più dettagliate in merito ed è tutto grazie prego Bliskowski grazie allora la prima domanda di l'Ener dell'onore l'Ener le sinergie che adottiamo per essere più efficienti vi ho fatto già due esempi ho creato un centro per la gestione finanziaria quindi l'idea era questa mettere tutti gli esperti in materia che però stavano in vari departamenti in un unico un'unica equip anzitutto per avere i migliori professionisti nello stesso luogo e in futuro magari anche ottenere delle economie di scala poi secondo esempio seguiva la stessa idea per la gestione delle conferenze infatti prima ogni dipartimento era responsabile per organizzare con interazio e simili piattaforme per l'organizzazione delle riunioni informali intendo no io ho deciso di mettere tutto assieme e anche qui abbiamo un pool di esperienze e di sinergie con risultati migliori poi gli appalti ci chiedete questi 6 milioni per eventi di che cosa si tratta beh è un contratto quadro e consente le nostre attività di comunicazione faccio alcuni esempi la settimana europea delle città delle regioni poi la rete dei giovani politici eletti e poi gli eventi locali ma sono pronto a inviare per iscritto ulteriori dettagli sui contenuti sui tempi di questi eventi che organizziamo poi una domanda di carattere generale sulla sicurezza dei dati in generale vi posso dire che stiamo molto attenti alla nostra collaborazione con la commissione con le altre istituzioni per essere noi protetti in termini di cibersicurezza intendo e poi l'orario flessibile e il telelavoro abbiamo condotto un sondaggio chiedendo al personale che ha risposto in termini ottimistici per avere questi due schemi l'orario flessibile e il telelavoro stiamo ora preparando un progetto pilota che stiamo discutendo già con il personale in modo collegiale l'idea è questa avere due o tre giorni di telelavoro quindi sì in effetti siamo a favore di mantenere questo elemento di flessibilità anche dopo la pandemia grazie Daniello grazie la signora Daniello prego sì grazie cercherò di seguire l'ordine delle domande circa la linea tra cattiva amministrazione e considerazioni di natura politica quando effettuiamo un'indagine noi vediamo come le considerazioni etiche comprese i conflitti di interesse siano riprese nelle procedure amministrative interne per esempio la chiarezza delle regole interne destinate al personale dell'istituzione interessata che può essere valutata per seguire possibili conflitti di interesse per esempio membri di gruppi che siano politiche che devono essere valutate su questa base che noi effettuiamo le nostre valutazioni non invece sulla base di considerazioni politiche o di natura strategica anche che ovviamente sono prerogativa della commissione per quanto attiene ai nuovi indicatori chiave di prestazione KPI noi cerchiamo di allinearli ai bisogni della nuova strategia verso il 2024 e in effetti abbiamo ricevuto un parere estremamente utile da parte delle revisioni interne e della Corte dei Conti parere che abbiamo ripreso potrei fornire alcuni esempi per quel che riguarda l'attività centrale noi siamo stati ben lieti di prendere in considerazione l'efficienza delle nostre indagini cioè la durata dell'inchiesta la frequenza dei casi cosa a cui ho fatto riferimento nella mia presentazione e io sarò molto lieta di potervi inviare delle cifre se questo potrà essere di interesse per voi per quel che riguarda le risorse umane noi cerchiamo anzi misuriamo il percentuale di occupazione ed è molto difficile da fare questo per amministrazioni molto piccole perché in un'amministrazione piccola ovviamente è estremamente difficile vedere tutti i dati perché l'uso delle risorse sembra essere molto compresso noi comunque vediamo il tasso di occupazione e calcoliamo quanti la forza di lavoro si è dedicata alle attività chiave ho parlato del tasso di attuazione del bilancio e noi troviamo che sia particolarmente utile un consiglio che ci è stato dato cioè di concentrarci sulla misurazione del numero di casi di importanza pubblica vale a dire quei casi che vadano al di là del mero effetto sul singolo ricorrente noi abbiamo riveduto il modo di trattare la percentuale di accettazione questa è una discussione che questa commissione conosce piuttosto bene perché noi vediamo che a volte un'istituzione o rifiuta oppure non propone immediatamente l'accettazione delle nostre raccomandazioni il fatto è però che questi cambiamenti questa situazione anzi cambia spesso noi vediamo che le nostre proposte di soluzioni o di raccomandazioni sostanzialmente sono riprese nelle pratiche amministrative o anche nelle regole però in seguito quindi è difficile da misurare da un punto di vista temporale per quel che riguarda le elezioni date dal covid-19 soprattutto per il personale ebbene noi siamo stati molto lieti di vedere che non soltanto abbiamo potuto funzionare grazie alla tecnologia informatica e grazie ai processi ma soprattutto siamo stati particolarmente soddisfatti di vedere quanta maggior responsabilità ha sentito di avere il nostro personale perché lavorava da casa quindi noi abbiamo praticamente quasi trovato una nuova motivazione nel nostro personale e ovviamente noi incoraggiamo questa motivazione perché questo è perfettamente in linea con l'organizzazione dello scorso anno che abbiamo completato nel giugno di quest'anno noi abbiamo appena introdotto il telelavoro il lavoro ibrido una decisione che riprende il diritto alla disconnessione e il messaggio che abbiamo trasmesso al personale e alla direzione è che si tratta di un sistema basato sulla fiducia i dirigenti si fidano del personale perché sanno che completeranno il loro lavoro si assumeranno le proprie responsabilità e il personale si fida dei propri direttori perché ovviamente saranno perfettamente rispettati le condizioni in termini di occupazione eccetera quindi per esempio in questa decisione noi abbiamo abolito il numero di ore centrale questa è una discussione che ha luogo in parecchie istituzioni è una decisione che si adotta col pieno sostegno del personale e della direzione lo stesso vale anche con la questione dello spazio collaborativo nei nuovi edifici il personale intanto era sconcertato in un primo tempo però poi li abbiamo coinvolti anche con delle scelte e forse anche per via di tutto questo isolamento che tutti abbiamo sperimentato durante la pandemia sostanzialmente il personale non vedeva allora non soltanto di trasferirsi in un nuovo ufficio ma anche in questo spazio collaborativo del quale vengono visti i vantaggi perché così noi dotavamo il nostro personale giovane di più autonomia è un'istituzione giovane abbiamo un personale giovane volevamo quindi che si assumesse più responsabilità tutto questo volevamo farlo ma le cose sono state accelerate e anche spinte nella stessa direzione dalla pandemia cosa che ci ha soddisfatti molto per quel che riguarda la questione della sostenibilità questo è legato alla nostra dimensione noi non possiamo riprodurre esattamente tutte le attività amministrative svolte da ciascuna istituzione l'interpretazione si interrompe qui perché abbiamo sottratto il tempo riguarda la collaborazione istituzionale l'IT eccetera e soprattutto per l'informatica questa è la nostra vita quotidiana abbiamo una squadra minima signora Daniello potrebbe concludere per cortesia perché è già stato sforato l'orangelo quindi concluderò vi è molta cooperazione interistituzionale grazie ultimo signor Cervera credo che non ci siamo senza l'interpretazione ma sicuro che lo intenderanno purtroppo il servizio di interpretazione deve essere interrotto perché è molto lato ma voglio ringraziare Donia Isabel e i membri di questo comitato per questo esercito di responsabilità è molto lavoro per noi ma anche per voi grazie questo aumenta la legittimazione di quello che facciamo di le instituzioni tre questioni che ho ho la prima è perché non non nel registro trasparenza perché abbiamo un code di condizione che incontriano i supervisori e perché pubbliciamo tutto che il Wieberowski fa in website ogni single meeting o event che attende è pubblicizzato e considero in view di la una question on how do we ensure a good enforcement of the GDPR well we are members of the european data protection board and over there we participate in lots of meetings sub groups and we have we are organizing a conference in 2022 precisely to discuss broadly about this issue of a more centralized and effective enforcement of the GDPR and the last question concerning the cost evaluation of the GDPR well this is something that on which the EDPS per se is not competent because this is we are competent for the EU DPR not by the for the GDPR but nevertheless I can report that the European Data Protection Board is working a lot on the issue of the small and medium enterprises they are developing tools to publishing a lot of guidelines to help SMEs if I may I would like to say that if ever a cost evaluation of the implementation of the GDPR is made we also need to have an evaluation of what is the cost of the non implementation of the GDPR because basically the focus is put on the cost for compliance with regulation but not having legislation fully applied has also big societal costs thank you very much many thanks to all the representatives for this long meeting answering our questions thanks also to the secretariat the IT team and interpreters the meeting will be resumed tomorrow at nine I wish you all a nice evening to to